Ho tutto quello che serve nella borsa, ferro di K sopra, il mio collo tra i coglioni due ferri Oddio, ho gli occhi di tutti addosso, puta punta, il mio pesce vuole quello più grosso Ah, stronzo se vuoi il fuoco dillo pure, abbiamo 10 a K sotto queste cinture Io conosco quella faccia perché tu non batti chiodo, guarda un po' sono il martello, questa è l'ironia del gioco Spingo forte sopra questa titti, finte facce da cattivi, giuro viaggio a fristi Meglio ancora se gli scarsi mi odiano, si svegliano eleganti dentro una cassa di mogano Conto soldi dei contatti, su una Supra Maxi, anche tu sicuro conti, si però solo gli schiaffi Vuota di contanti, verdi, viola o gialli, ci scrivo una H, nel frattempo gli ho rifatti Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male Ti danno le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male Ho le palle di 3 kg cabron, pervenza che sono come bygone Voglio tutto si dimmi perché no, sto nel club ed inizia lo show Ma non è che sono forte, il livello che è ridicolo E non è che vado forte, sei tu sopra un tramizzo Ti spurchi e ferri lucidi, stand up come Ludacris Fumo grammi di butto, ci fa la faccia di stili uridi Guarda caso sti falliti, vogliono vedermi appeso La corona brilla d'oro, ma dell'oro ha pure il peso Tu non è che sei difficile, secondo me sei leso Gente seria a drogarmi, situazioni sempre peso Pirri vogliono il mio culo perché stanno sempre dietro Gli darei la merda pure se scappassi solo in retro Mi ci compro case d'auto con gli spiccioli qui in tasca Se non hai capito il nome, per favore, zitto e basta Ridano le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non pestarmi i piedi o ti fai male Ridano le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non pestarmi i piedi o ti fai male Ridano le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non per starmi i piedi o ti fai male Ti danno le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non per starmi i piedi o ti fai male Buonasera belli miei Buonasera a tutti Buonasera Alino Buonasera Ammer Buonasera Stefano Buonasera Massimiliano Ciao bello Buonasera Maria Antonietta Ciao Luca Ciao bello mio come stai Che si dice ragazzi tutto bene Che mi raccontate 298.1 Ok Allora metto un attimo la radio Check Che cosa qua è la mia Mentre era un attimo Metto a posto sui soldi Bella Giovanni Oh Giovanni Grazie per like e condivisione Grazie Ander Grazie Ed Luca Tania Jonathan Massimiliano Grazie a tutti ragazzi Buonasera Come andiamo Usiamo questi Ci teniamo dietro sta roba qua Possiamo anche sta pillola Va che Abbiamo sempre in mezzo i coglioni Non si sa mai Et voilà Check Niente Ma le macchine dove cazzo ce le ho Che palle Dai Ma come si fa a ruolare così Come si fa Dai ma Vabbè Tutto ok Tu come stai Bene Bene Buonasera Tania Come va Il ticket è stato accettato Assolutamente no Non è stato accettato Il ticket assalto Niente Casa non si cambia Facciamo così Andiamo a rompere il culo a tutti Sì Adesso iniziamo a ruolarla un po' di merda Ragazzi Wehammer Ciao Andre Andiamo a spaccare tutti Andiamo Stanno alla barrozzeria Adesso vado Andiamo a fare danni Andiamo 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 Anche perché tanto fare i bravi Non serve a niente Quindi Nel chill più assoluto Stasera E' rep ignorante Tanto Purtroppo è quello che bisogna fare Niente Non c'è una macchina Scusa caro Non è che mi presti il camion Per favore Oh no E non ti incazzare Fai bravo E' per una giusta cauda Non ti incazzare So perché non hanno Non sono in radio Ma andiamo a vedere Se c'è qualcuno in barrozz Bisogna in ospedale Ci vediamo in barro Cazzo ci fai in ospedale tu Con questo aspetto Mi sa che ti rapisco Dove più di come stavi prima Perché Teoria dovrei essere Un po' Diverso da prima No Prima avevo capelli rossi All'insù Adesso c'è il capello Brizzolato La barba Dovresti fare un carico Di cibo e acqua E te li porti a casa Eh ne ho 20 e 20 Adesso Madonna No Devi fermare Che muove Non ho le motivazioni Raga Anche volendo Non ho le motivazioni E fino a che sei col camion Ti piace quel camion Di che claxo Che abbiamo qua Adesso vediamo i ragazzi Qua quando mi vedono Arrivare col camion Vabbè Vorrei fare Fucchita la macchina Il fucchita Il fucchita Il fucchita camion Il fucchita camion Vuoi che te lo faccio rosa Guarda che barbetta Mi riconoscevi Ma perché così Mi riconoscevi No Eh perché La polizia Quando arriva davanti a te Ti dice Piacere Tu sei Samir Medi Come fai a saperlo Non lo sanno Magari così Ti controllano Sanno che sei tu Sì sì Però Devono controllarmi Me la facciamo quella scena lì Che vogliono sempre mettere i bastoni fra le ruote Eh Mi si so Il camion quando sei arrivato tu era nello Che figo che sei in camion prima Viene così Hai fatto No rodo Mannaggia maledetto meccaniche Lo volevo Lo volevo con Fucchita Eh ho fatto anche Fucchita Però è rosa Lo Lo Los Poglios Hermano Sì Fucchita però è rosa Los Pollos Hermano Quello lì Il mio camion dovevano vendere Il Pollos I fratelli Pollos Pollos Siamo io e lui Fratelli Pollos Eh Dicevo E secondo te No Sì Ah sì 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 Ah e vabbè vorrei vedere Negativa però No Come negativa Eh tanto Cioè Non Non Venire in città Ma chi No Allora Io Pensavo per Il TikTok Ah no No Non per il TikTok Ma Quello L'arrivata Negativa Sì No Per quale Per quale motivo Pronto Pronto Signor Principe Mi sente Certo Aspetta Possiamo incontrarci Dove Dove vuole lei Ci dia lei Un punto E noi vediamo Eh vediamoci Che ne so Ma Alla barrosseria Alla barrosseria Eh Qua mi possiamo Fogli incontri Signore con le maschere Tutte Andiamo appena dietro Andiamo lì al 400 Lì all'ipoteno Alla 400 Vabbè Noi al 400 Ci vediamo lì Vabbè Vabbè Ma chi erano Il loro Era il nonnino lì Ma c'è Ma perché Perché negati Togli il ferro Togli il ferro Ma non è sempre A ferro in mano È sempre a ferro in mano Incredibile Incredibile Non per mai Ma scassare Sì A quello ci può stare Da pilot No ho capito Ma perché Questo Ah quindi Beneteva Penso di niente Sempre gira attorno Cioè lo chiami tu O viene lui da solo Non ho capito Di sta cosa Ci ha regalato 40 pistole Chi Per il favore Dello per scamato Alla fine L'infame Che capitano Tu dici CJ Sì 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 Ma guarda Un amico CJ Gli voglio bene Sì ma a parte Quello ci riguarda Che io penso Che la loro storia Recca Se no Avrebbe fatto La stessa fine Non sono Non sono infame No Mi nascondo No 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 È arrivato Quello che mi porta A morire Mi nascondo Aprite gli occhi E mi hanno dovuto E mi hanno tenuto Un'ora All'interno Delle scelte Un perata Tutto il volo Un perata Già faceva Scegli poco Guidare prima Voglio vedere Che non ho Chi so Già faceva solo Stronzate Con due occhi Ma come ti permetti Ma come ti permetti Ma come ti permetti Oh Dagli pure a dare bugna Dagli Signore No Ecco bravo Mi hanno appena operato Stronzi Ha fatto bene Staccagli anche l'altro Non so chi sei Ma grazie Ha fatto bene Chi ne guarda Aggiungere Io sono KK Io sono Samir Un pezzo di merda Ci tiri i punti C'è l'avvocato Che ti c'è Comunque Nettuno Piacere mio Signore Piacere signore Samir Samir Piacere A casa mia Si saluta così Signor Samir Com'è Così Io Bello Bello Mi piace Mi piace Poi folkloristico Ma mi piace Ci conosciamo Noi ci conosciamo Poi un altro bacio Lei ha avuto la sfortuna Di conoscerlo già Quindi È la fortuna Un brutto strozzo Vabbè è stato divertente Il giorno vero In cui l'ho conosciuto Non è guardi che se lo ricorderà Poi per tutta la vita Mi credo Mi hanno detto Un pezzo scoppiato Pezzi di proiettini di testa Ero pieno di sangue È venuto fuori Schizzato il sangue Magari uno D'entrava Nei cervello A me noi ci levavamo Ero strano Esatto Ma è già cazzo Io anziano Polizia Polizia Qua davanti C'è uno Eh vabbè Lascia io Tira fuori il pisello E fagli l'elicottero Sopra Mi dissocio Ma sia Nami namo Nettuno Io sono Saturno Piacere Sì potrebbe darsi ragazzi Potrebbe darsi Saturno A San Benedicato San Benedicato Piacere Plutone Piacere H H Aiz Ciao Signore Aiz Piacere Oh Te devi chiamare l'avvocato Oggete che da tutt'oggi Tu adesso Devi andare a fare Un attimo Una commissione importante Ma senti Ma tu c'hai l'anello Fai tu In che senso E lui di Saturno Dovrebbe avere l'anello L'anello Quello che vi Bravo Ma poi non è Stato attenti Stato attenti Perché lo ragazzi Anche il covid Per prenderne qualcosa Da mangiare Quello è sicuro C'è il covid Quello è sicuro Lavora qui Aiz 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 Abbiamo un po' di Premura Che successe Devo andare un attimo Da una parte Che ci sta aspettando Una persona C'ha freddo Offro da bere signori Signori Offrgli da bere Signore Se me devo andare Me ne vado No Dobbiamo andare noi Spostare noi Ma venga Le offriamo da bere Volentieri Signore Nettuna Offerto? No Io pago La prima volta Che un cliente Entra Mai pagherà Quindi Signore Non ci farei caso Ma è un bel posto Ma sì Un po' di vecchia Offerto Mangiata e bevuta È tipico Adesso vado Ragazzi La chat Oh grazie Non dovi Troppa 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 Tanto lo siamo Abbastanza Adesso Tra ieri Ragazzi Siamo pieni Tra ieri Non so dove sono Gli altri Perché non sono In radio Se non ti offendi Perché a mia età Ho capito Troppo forte Anche il signore Aveva bisogno Tanto partirà La rotina A me la bere Grazie Ma te che cazzo Mi piace quando c'è un po' di sangue Mi piace quando c'è un po' di sangue A destra A sinistra Mi piace quando c'è un po' di sangue Che schifo Vai cagare Ho visto che uno ci vuole mettere il pisello sopra l'occhio a quell'altro Sì Vuole incinta Però In tempo di guerra ogni buco è trincea si dice Ma se non c'è più la palla c'è il buco Ma il suo signore c'è l'altro buco Ma il signore c'è l'occhio nel suo periodo Guarda È quello che dico A me piace di più quando è così Non so se mi disto Sì Mi disto E ma occhio che si altera e ti picchia però Che è suscettibile a voi Ma un po' di cioccolata adesso gli do al signore Dai un vetto di cioccolata ragazzi Anzi no guardi guardi Una volta per dire sta cosa Che sta male La cena suppositiva Vediamo a chi ha detto Oh guarda chi ha preso l'handog No l'hai preso tu l'handog lungo Eh sì No Chi? No io l'ho preso niente Sì sì guarda Guarda in tasca Te l'ha appoggiato in tasca Perché puoi guardare nelle mie tasche Dico che non ce l'ho Ce l'hai ce l'hai Ma come no? Signore Abbiamo visto che l'ha preso Ho visto chiaramente che te l'ha appoggiato Io non ho fatto una sommissione Ma più tardi magari ci vediamo un attimo Dai Io lavoro a concessionario 562 Se vi serve qualche macchina Qualche motore Allora possiamo fare così Allora passiamo a fare un saluto Va bene Come andiamo a fare shopping Che ho bisogno di un paio di veicoli Eh ma non c'ho tanta scelta però Perché il titolare Tone Principale direttore Non accatta macchine assai No? No Ieri Non lo so perché Ieri ho venduto sette macchine E io l'ho finite tutte Ah 561 Eh ma lo sa cosa Anch'io ho lavorato nell'usato E' molto molto Vincenzo grazie per il like Bello mio Si prendono più veicoli Di quanti se ne riescono a comprare Benvenuto Che mi sono? Ma avevano proposto Di fare un direttore A un altro concessionario Eh E magari viene con noi Una persona di parola Ha dato una parola a Tony All'altro usato Ho usato Roma Eh ma i miei Non rispondo noi Dai magari un paio di veicoli Allora facciamo così Allora Passiamo di lì noi Va bene? Allora Tutto bene? A sera Tutto a posto Oh bedda mia Come stai? Fatte salata Dove manchi? Ma? Mi sono venuto a trovarti Hai visto? Questa è la mia zitta 18 Ma cometi per me? No Scusi Non sapevo Allora È la mia La mia batalla Signora? Signora Stiamo arrivando Stiamo arrivando Siamo dietro l'angolo Ok Lui siamo qua in fondo Sì Arriviamo Sì 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 Vieni 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 Porta anche Cingone Porta anche Cingone Ma i ragazzi dove sono? Chiusa I ragazzi sono in radio? Eh Mi sa che sono in giro Eh dovete allontare Ma in che radio sono porca amadosca Non posso andare dove micchia Gli pare Su mi cazzo Erano su questi Erano su questi Raga? Su questi Ehm Ma l'onalfa li scasso Veramente Mi hanno rotti i coglioni Chiuso Chiuso Ma l'ho appena aperta Ma butta il successo di macchina Andiamo con l'altra Dai No è aperta adesso Prova Madonna Andiamo È aperta Vieni Eh già Stai pensando che esce con la macchina Vedo che non la Ma non me la presentate quella con quel gran culo Che ha pezzi di sticchio Madonna Eh che è un culo fotonico Sto cazzo Pure una voce da Eh Eh ragazzi piano piano Porta il pesce Siamo in quattro Che è il pesci di posto Vabbè Sarei voci Guido io Guido io C'è pure un Che guidi tu Ma che no Sì Con occhio o meno Guido tu Ma Infatti prima ho preso Tre pali Ma tu perché mi hai fatto Dar la macchina A quegli elementi Ma perché non mi mette la maschera Mi sono rotto il cazzo Perché non ce l'hai con questo outfit Allora Sì che ce l'ho Vuol dire che hai chiuso gli occhi Senza la maschera Capisci Non è vero Sì No Sì Corretta Grazie Emilia Non è vero Non è vero Bello Grazie mille Tomas Grazie per il like Antonio Grazie per il like Andrea Paolo Rola Vicenzo Grazie per il like Ragazzi Benvenuti a tutti Diamo una scorta a questa serata Siamo i pochi Usciamo un po' di like Usciamo un po' di condivisioni Mandiamo qualche stellina Che c'è me la merito tutto bene dai tutto bene piano piano stiamo provando di risollevarci un pochino voi come state diciamo che ieri l'abbiamo passata liscia insomma siamo un po stiamo ancora sudando freddo dopo ieri sera ma pensate sia finita dopo ieri sera voi signori no appunto per questo non si rompe da voi no non lo so io le chiedo a voi perché sinceramente poi ci ha mandato via quindi non so come siete rimasti ma secondo lei una persona che mettiamo caso no c'era lei al posto di quei signori vestiti giallo in quel momento non sarebbe mai arrivato fino a lì mio fratello l'avrei già ucciso prima quando mi dicevano che ero un infame o lo mettevo su un aereo e lo facevo andare in un'altra città e secondo lei visto che sono passati anche qualche giorno e quando abbiamo avvisato quella famiglia che non l'ha fatto che non ha fatto nulla per ammazzare quel ragazzo prima di arrivare a quel momento o non si è mai impegnata per sapere insomma cosa faceva questo ragazzo in città ma signori di stare in mezzo a noi questi ragazzi però nemmeno d'arco gli ha fatto niente quando ha saputo e volete stimerminare non voglio fare niente sinceramente se non decide d'arco invece di gente sopra di me niente signori non nemmeno le capacità per farlo ma i capaci le capacità sono l'ultimo dei problemi con una buona testa ma le spiego le spiego io sto nel mio insomma in questi casi dove no no ma la domanda era a me nemmeno fatto un tolto cioè lui questo ragazzo qua a martinez mi ha fatto un danno mica da ridere a lei a me a voi io la casa vuota e sto vivendo in un motel e capisci che comunque con quello che abbiamo fatto insomma ieri gli abbiamo dimostrato ancora una volta che noi siamo dalla sua parte lei era un po in dubbio no sbaglio ma sa signore come la cosa i dubbi nella vita uno li può avere fino a prova contraria ed è giusto che sia così quello che avete fatto per carità è stato un bel gesto nei nostri confronti e l'ho apprezzato molto così abbiamo un po capito tutti quello che è successo e con la morte di jay diciamo che possiamo essere un attimino possiamo un attimino sentirci più sollevati di quello che è stato no ma comunque lei il danno ce l'ha e se lo viene io il danno ce l'ho e me lo tengo e il danno comunque l'ha fatto la polizia e diciamo che solo che in questa città la polizia è intoccabile non si può fare niente e quindi dobbiamo tenere lì che ci danno la caccia ci daranno la possibilità insomma di fare qualche soldino in più magari qualche arma io stasera avrei voluto distruggere la centrale della polizia il governo tutto ma purtroppo non lo posso fare voleva migliere caro mio cos'altro è no signore perché se il radio dei cieli dice che non si può fare non puoi fare niente si sono in radio c'è la accendo mi scusi un secondo signore le avevano presi i ragazzi non si sa se la radio è pulita io ho appena dato la posizione a capa falli venire ma la radio però intanto fai che un attimo cambiarla e se riesci si è immediatamente di l'ho e comunica e quindi signore purtroppo abbiamo le mani legate buonasera signore ma fra tutti vabbè ma distruggere la centrale di polizia distruggere il governo e cosa le serve per fargli capire che poi avrei preso dopo qualcuno dalla polizia e avrei detto a noi che abbiamo distrutto la vostra centrale di merda il vostro governo siamo quelli che abitano in quel posto provate ad entrarci di nuovo e vi distruggono di nuovo tutto vediamo che la sua vera radio cambiata radio cambiata per casa sua si guardate io purtroppo a casa mia signore non ci posso entrare proprio entrare perché perché se sono entrati una volta non posso entrare una seconda beh ma si prepara meglio no e cosa dice no che io penso che non ci sono momenti in cui tu si è preparato a queste cose signore mi capisco e allora cosa fa si nasconde come un coniglio da tutt'altra parte della città no voleva attaccare la città lei è una persona forte o no certo e allora perché non fa vedere quanto è forte rimanendo in casa sua rimanendo lì dove abita lei difende la sua casa si ma questo è un passaggio quindi ci mettiamo tutti quanti dentro casa stiamo seduti lì aspettiamo che arrivano no signore non le sto dicendo questo le sto dicendo che magari ci sono tanti modi e metodi per difendere la casa propria no si ma signore ma lei deve anche capire che io non è che posso tenere le persone dentro casa ad aspettare che arrivano non le sto dicendo questo e cosa mi sta dicendo sto dicendo semplicemente che magari insomma in certi momenti una telecamera in più insomma fa bene in casa non ho visto che una bella villetta e ma le dinamiche che forse lei non sta comprendendo signore io capisco le dinamiche perché se quando loro entrano in casa io ho visto che la telecamera che sono dentro posso sempre arrivare con una pistoletta a difendermi se andiamo a parlare del nulla ma comunque lasciamo perdere questo problema che tanto il problema secondario se fa queste cose le fa quando è sicuro al cento per cento che lì dentro ha tanta roba no cosa fa la viene prendere ogni giorno le viene a rapinare in casa ogni giorno non credo ci vorrà un bel po prima che ne venga a casa sua no e guarderei meglio un punto con la casa sua possibile possibile voi che intenzione avete adesso con questi ragazzi lei la nostra intenzione è sempre quella insomma di incominciare a fare qualcosa scusate posso capire che cosa signor principe scusi che cosa che c'ha niente niente tutto a posto signore stavamo un attimo chiacchiando col signore qua che mi chiedeva un po dei gialli cosa veniva a fare forse per me io come ho detto al signore qua volevo solo andare in centrale distruggere un po tutto non è una gran mossa questa è però non è neanche stupida se ci mettiamo tutti insieme ma cosa distruggi possiamo distruggere prove e li fa incazzare ancora di più tutte le prove sono distrutte tranquilli ma poi pensate che i fascicoli più importanti stanno dentro una carta di centrale dei polizioni o stanno il governo signori ma il problema che i fascicoli si passano fra di loro e poi comunque possiamo levare i fascicoli per un processo futuro ma non sono indagini cioè l'indagine che dobbiamo anche aspettare a un certo punto ma se posso secondo me ci stiamo preoccupati dalla polizia però come avete raccontato ieri sera un fratello ha ucciso un altro fratello giusto davanti a persone e quindi si è sentito umiliato ma secondo me cioè secondo me cercheranno vendetta loro ma avete il numero di telefono di questo fratello sì certo secondo me ma più che altro che noi siamo stati danneggiati voi anche però loro stessi no però ragazzi nessuno gli ha chiesto di ucciderlo sono loro in primis c'erano diciamo prima che non sai che quando attaccano loro invece ma dove vanno ma con chi parlo con chi parlo col fratello di quello mi sa pronto ci entriamo il numero di trappa e spacchiamo è buon finito ciao mi ha detto che voleva il principe mi dica sinceramente signor principe ma è possibile incontrarci io non so questi chi sono ma non mi sembrano le persone insomma a posto queste qua eh quando posso ma quali questi gialli ma le posso assicurare che signor è in città c'è gente molto meno a posto eh va bene signor l'aspetto quello che a me non piace di questi ragazzi qua che quando hanno avuto la notizia la certa perché a questo punto era certa di avere un'infame infamia non hanno fatto niente appunto non stare tanto a posto io più più volte io ho detto la loro verità io ho fatto vedere io ho detto prove io ho detto che avevo ripetuto ma chi è che parla? ma questo non sta parlando guarda quello ma loro non hanno ammazzato nessuno poi io posso capire signore che ammazzare un fratello sia doloroso però sia un infame non puoi neanche tanto considerarlo più fratello no per il mio so come so come guardia sotto la pioggia infame e frascico proprio cosa le ha detto signor? quindi che ha detto questo che ha chiamato? eh che appena ha detto che si lavava le mani non so che cazzo aveva in mano non voglio immaginare ma che cazzo volete mi che l'ho detto io l'ha detto lui ha detto che c'avevo dei cazzi per le mani ma che cazzo ma se volete possiamo andare a dare intanto un colpo sappiamo dove abitano pure colpo di minchia vabbè ma quindi come le dicevo l'idea della no sono andati fino a me no dicevo per me è un po' una stronzata ad andare ad assaltare la centrale di polizia cioè non dimenticatevi che quella comunque è la polizia perché sono scemi eh ma va bene tutto sono quattro rincoglioniti in certe occasioni però comunque sembra la polizia e penso che non sia una gran bella fine che si fa se in caso si viene presi ma signore quando tu hai uno che ti entra in casa a me non me ne frega un cazzo che sia forte, debole, scemo, pagliaccio, coglione, due metri mi ha invoglia di sfondare la testa ma quello è mica un lato però signore quello è mica un lato non è che l'entrata in casa un lato l'entrata in casa una persona che ha fatto il lavoro però scusate ragazzi quando non c'era nessuno e si sono fottuti tutta la roba da dentro come i lato se posso permettermi io vedo una reazione diciamo così troppo a sangue caldo bisognerebbe un attimino fermarsi e pensarla bene la situazione le cose belle le fai quando stai a sangue caldo vieni con me, venite con me seguitemi signore si deve sistemare la maglia il sarto le ha lasciato un buco ma lì non c'è ma è stato l'è uno arrivo arrivo ci sono solo qua la dobbiamo seguire a me mi dico la dobbiamo seguire si dovevi seguire dobbiamo fare seguire voi? e lì po', dov'è che abbiamo la marce noi? ma avete lasciato il capone da solo? no no è sulla getta ma questi non ci voglio portare quanto fa Massimo questa macchina? beh, tanto comunque ho fatto fuori il fratello ieri cavolo non so come ha messo se così messo male che dipende quanto fa capito non mi butti in un posto infatti se c'è anche un carino ammazzarlo adesso c'è anche l'oro faccio questa cazzo di mescolata faccio che non la fa andare a me mi dispiacerebbe ragazzi adesso saltarli uno perché tanto le motivazioni per farlo c'è purtroppo ragazzi questo gioco qua quello che voi non capite ma io lo so, c'è giusto no? tu vedi una scena del genere e dici vai là prendi quello e ammazzalo non lo puoi fare non lo puoi fare io vado là prendo trappa gli entro in casa lo punto gli dico che lo ammazzo gli sparo e si rialza perché tanto non lo posso ammazzare per sempre non ho le motivazioni per farlo è al limite del power non posso andare più veloce con questo power give me che power attenzione anche perché poi ha l'eruoto da la strada quindi sarà tira di più ci si chiantiamo diretti sicuro tutto ah vabbè capito che andando a casa loro diretti ah 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 io l'uno dei giorni e ma che palla umano e tu la playa stare stare a dare dentro cane delle ore so che mi cambiano c'è ragazzi ma ecco problemi che possono creare tutti ma non ci possono fare niente Adesso ci vuole un bel po' perché dobbiamo fare entra e usci ragazzi Ma dov'è ombra? Ma dov'è ombra? E' dietro di te ombra Ombra Vedi che c'è l'ombra Cos'è che stanno facendo? Stanno facendo benzina, arrivano, arrivano Ah ok Ah qui è una macchina per caricare un po' di roba Gli diamo il nostro, gli diamo il nostro camacho Ma per cosa fare signore mi scusi Perché cosa fare signore? Mi ha detto che ha avuto un problema Ma no, ma signore lei non ha capito il discorso Il problema è già risolto da quella dì Forse lei non ha capito Faccia finire, faccia finire Aspetta un secondo E' già già tutto alterato sai che non è che sto facendo le mosi Prendi Eh Ti sto dando una cosa, un prodotto al bacio E quando ho affitto tutto? Allora al bacio Hai invito a me Ah ok Hai capito? Questo mi interessa di qui Adesso Eh sì che ti può interessare Vedi Del resto ai tuoi E se se ce la fanno è ancora più al bacio Pensa un po' Lei l'ha provata? Questa gran coppola di cazzo Ragazzi vi devo rubare un Dei fuoristrado scusatemi No no Perché? No 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 Cosa stai facendo? Prendi il tuo Vai via 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 ragazzi civico 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 non litigando sti lingue uniti ma state litigando con qualcuno sì sì sembra sicuro ma è sempre così poliziotti sicuramente ah 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 vieni in seconda sola mi dai la radio nuova che fa? lo posso lo fare te lo dico subito 473 punto 68 ma ne vuoi approfittare per cambiarti al volo così hai la tua cosa? io non ce l'ho da prima appena abbiamo finito qua c'è anche un camacho blu ma tutti gli altri dove sono? 2 e 4 ma lento ci sono 2 e 2 e 4 2 e 2 e 4 dai entrate però mi stavano sparando con del micro smt tipo 4 con le pistole adesso non stanno facendo niente perché mi stanno giando intorno che c'è la polizia qua ok cosa ti devo dire Alfa non mi fanno fare quello che voglio io ho aperto un ticket per fare l'assalto alla centrale per cancellare tutte le prove su di noi non me lo fanno fare cosa vuoi che ti dica vieni a 723 non sai mai parlare andati a perdere preparati il ticket ok che ti va andare pure a noia siamo quasi al 400 non vedo più la polizia loro si vieni verso il 405 condivido che il teleporti è appresso non stiamo andando noi appresso loro perché ci vogliono dare una droga da spacciare sono lì che mi stanno parlando con la polizia sono lì andiamo a preparare l'assalto a convoglia tra il 205 e il 209 che parlano con la polizia eh dobbiamo aspettare che ce lo dica io sono al 2 mi devi far cambiare sta cazzo di maschera raga dove si sta mi dica caro e perchè da lontano e no perchè stavo parlando con il ragazzo la che c'hà un appartamento volevo un attimo cambiare sta cazzo di maschera vedi uno di questi che cazzo di maschera vuole che maschere di merda ma la maschera non le serve niente con noi non le serve no no non sapevo con chi eravate signore poi quando mi chiamate magari l'altra volta sono arrivati c'erano gli ispiri e la piglia ti ho messo una cosa qua se no ci mettete sei giorni ma quella è stata una casualità non la chiamai io non ci devo più fare chi è questo? si ma prendi in braccio cj dove sei? fagli aprire il rimettare 1 lo prendi in braccio e vieni qua davanti ci mettiamo 7 giorni vabbè ma non puoi ma porco tu eh lo so ma ci mettiamo 19 giorni lo so ho capito ma proprio quale devi dire c'è fallo e bassa no? ma c'ha cazzo è venuto a mangiare lui uno qualunque eh uno qualunque adesso la tolgo questa cosa del peso delle tasche mi hanno rotto i coglioni già dai uno deve fare lo spostamento in 6 giorni eh ma la cosa bella che sai chi sono i migliori imprenditori no? quelli che prima facevano gli operai in quella fabbrica poi diventano i proprietari e allora quelle fabbriche vanno bene no chi è arrivato lì? visto che è uscito il discorso posso darle un consiglio? non ho capito un cazzo di quello che hai detto? eh poi te lo spiego posso darle un consiglio visto che è uscito il discorso? se invece vengono pure i borsoni che si possono usare? mi dici come anche infatti sarebbe la cosa migliore bravo un borsone che almeno va a fangulo tu te lo prendi sposti tutto quel cazzo che vuoi esatto e ci sta che quando così non va però quando poi c'è quello va a fangulo me l'ombricoglioni bravo due tre chili ci ributto dentro bravo sennò fanno sempre sto pasticci eh signore comunque qua niente da fare eh ma di là c'è una cosa eh di là c'è eh nella prossima si hai capito tu preparati l'1 settembre bello mio eh preparati io? eh sì è l'1 eh l'1 settembre sono già carico attenzione 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 vado verso c'è il terremoto l'1 settembre ah signore aspetta vieni qua Lino Lino eh dimmi qua sono eh ce l'ho spoilerato che l'ho spoilerato poi Lerone il primo settembre c'è l'inizio della V4 ragazzi avete sentito? ma sconami per favore visto che tu si è armato pesantemente me lo dai la pistola per cortesia perché? eh perché non ne ho lei lei si è sano sempre qua sarà shh non lo dica nessuno troppo pesante sto cercando un numero sempre qua sarà dove l'ho capito sarà sempre qua me lo vuole dire nell'orecchio shh non so non sente nessuno sarà sempre qua sarà che cosa? dove dovete chiederti? in che senso? e vabbè allora signore lei con la droga se l'è pippata tutta in America in Italia in Cina in Thailand ma questa cosa qua non lo so per me non è che fa differenza penso che rimanga americana possiamo parlarne dai partiamolo tranquillamente che è una cosa bella è bella sì allora secondo me io penso che era più bella in Italia eh non so ma in Italia però è un po' un complesso perché viene fuori una sorta di ibrida si viene male viene male con quello che c'è già le cose più belle sono tutte americane ragazzi noi abbiamo è tutto più grande è tutto più grande no New York tipo New York stanno cercando di caricare quello che c'è in tasca allora quella lì la sto quella lì la sto facendo sistemare sto guardando se è possibile perché io volevo fare solo quella lì eh ho sentito la voce che è pazzesco sì sì io volevo fare solo quella lì che cosa non ho sentito non per essere differente dalle altre ma perché secondo me è molto più bella di però il problema è che quella quella mappa lì è un po' brutta cioè c'ha delle parecchie carenze ah tu New York dici sì cammini in mezzo alla strada e cadi sotto mappa ah no no beh se poi deve creare magari cose che si possono aggiustare eh no perché quella lì è un remake è tutto un remake un problema da caricare quella lì è la più leggenda di tutti perché è tutta nuova eh ma ho saputo che è strafiga eh mi hanno detto in tanti che è un sogno io volevo creare solo ed esclusivamente quella senza nient'altro dentro solo quella cioè lo Santos la chiudo io esatto lui deve loggare dentro lì bravo secondo me sarebbe spaziale lo Santos non vorrei farlo esistere però è molto difficile farlo poi non ce n'è cioè capisci saremo gli unici sarebbe proprio mamma mia già solo per curiosità di provarla secondo me infatti però domandati questa cosa qui perché sei l'unico ti l'hanno messa secondo te perché nessuno l'ha tenuto lo so la prima domanda che mi sono fatto tra me e me però so anche che ti sei capace io me la ricordo e io sono capace a cambiarla no frate io sono capace a dire una persona di farlo ci sono tanti americani tanti brasiliani che hanno altre mappe comunque eh ma io te l'ho detto io le fanno benissimo quello guardate l'ho detto mettete sì la più bella in assoluto è quella che sto dicendo sì signore ma il principe quale è la sua camaggio New York ma io non c'era un camaggio qua quale è la sua macchina eh siamo a piedi ci hanno lasciato a piedi signore eh abba la prendiamo una di quelle prendiamo una di quelle va giù mi hai messo nel camion 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 signore cosa mi ha dato intanto ho dato 5 kg di blue sky si chiama blue sky vedi te l'ha fatto un po' di soldi portami quanto ti devo dare un terzo del guadagno signor principe ok va bene prenda il camion grazie mille signore prenda il camion la macchina c'è 300 ancora eh controlli anche davanti davanti non me ne sa anche anche la mia camera ok grazie mille signore il dar coraggio stronzo non potete prendere questo bianco prendetela 306 non mi fa salire non mi fa salire non mi fa salire non mi fa salire non lo so non mi fa salire non mi fa salire lo so lo facciamo dopo facciamo un giro salire 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 aspetta l'avete presa rosa scusa e lascialo qua salire 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 Oddio Ragazzi che state combinando? Vabbè ci prendiamo quella bianca Vaffanculo Vieni qua Abbiamo una Lambo Non so se Visco Avete scassato la minchia oggi eh Dimmi leggere ragazzi un attimo Non andare a sbattere chi mi fai male eh E' chiara la cosa che ho detto Non andare a sbattere chi mi fai male Posso ricordati Quando incroci La stampa Lascia a perdere Va bene no ragazzi te lo giuro No ma Guarda ti devo dire la verità Eric secondo me no Secondo me ci hanno regalato anche 5 kg di blue sky per farci tirare su qualche Cioè ci hanno dato 5 kg di blue sky per farci tirare I soldi Stiamo andando Eh stiamo andando a casa adesso Tu ti devi Quella vecchia No aspetta un attimo Cosa c'è che non va qua? Questa te facendo? Eh scaricando Ma qua la volete mettere? Ah si dove la vuoi mettere? Dove la vuoi mettere la barrosseria? Io la mettevo a casa Ritorno a casa la vaffanculo No ma non ascoltare Lascialo stare fai bene così Ma a casa se voi iniziamo rimettere pistole La roba per i ragazzi Alla ora non ho capito queste cose Lascia stare le litigate da questi giorni A rispettare Mettiamola a casa Se la mettiamo qua fra è un casino Mettiamola a casa a casa Prendi anche qualche pistola Quante pistole abbiamo qua? Va bene Ne prendiamo magari una decina Che numero sei tu? 9-2 Qua però lasciamo diciamo Tutta questa roba qua Cioè i soldoni I soldi sporchi Le robe le teniamo nascoste nelle case Le pistole A metà serata ogni tanto Io porto a casa mia Tu porti qua E portiamo via la roba Ma le pistole Se le entrano sti cazzi 10 pistole, 20 pistole 160k Ok dai io ne ho un 7-8 Tu ne devi essere il 7 In più i ragazzi li ho riforniti A proposito ho pagato multe di Un ragazzo per 2 milioni Ho pagato 4-5 ragazzi Oggi compreso 5 Ragazzi mi sentite? Mi sentite? Venite al Dove abbiamo gli appartamenti Che mi dovete fare la scorta Che c'è il camion Abbiamo un camion con 5 kg di blue sky Da portare a casa Partiamo dal 9-3-3 Ma questo è vuoto Scusa Guarda dietro Se è vuoto io lo lascio qua Guarda dietro Se è vuoto Io lo lascio qua Prova a vedere se c'è qualcosa dietro Sì che è vuoto Ci vediamo davanti al 1.6 Raga Un menzionito Io sto sentendo la pistole però C'erano Ragazzi ci vediamo davanti al 1.6 L'ho messo in tasca Puoi prendere la Lambo? Ma sì 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 Andiamo la Lambo Per oggi è possibile Per oggi Un attimo ragazzi vi leggo scusatemi ma un attimo Di casini qua dobbiamo cercare di non far cazzadetto Deve andare davanti al 1.6 1.6 1.6 1.6 Mi marca il punto Dobbiamo andare a casa diretto Non mi fa mettere la roba nel porto oggetti perché? Ah troppo pesante c'è solo 20 vabbè Macchina di merda Sì 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 ma infatti sono un proprio avanti Tanto chi sono cagato dietro col camere Poco fa Perché vedi il guidatore con i capelli di rosa Il mio da Madonna che sanno per questa macchina Sì anche io sto punto veramente Gionato Qua 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 Tanto piacere Io sono poi Comunque GG Vai alfa Sì alfa sta facendo un lavoro Ragazzi H Civico Non disiando 1.6 Mi hanno detto 1.6 Ragazzi vediamo qua E da qua andiamo verso cado Ok Ce l'hai un po' di muni Proprio uno e basta Eh Anche io Un pacco di munizioni Mi sto 1 Eh Adesso hai il supporto Io torno Non è di sono fuori in feria Sto cercando di giustare ragazzi Fuori da fuori Sei un grande alfone Sei il numero 1 cazzo E' più leggera perché loro hanno La buscata Hai sentito comunque la spoilerata? Ma chi è che ha la mia Ragazzi avete munito Un'altra casa lì? Di sola? Ragazzi tu sei Scendi scendi Vieni con me Pri Pri Ragazzi tu sei nuovo? Sì Ah mi dissocio Tranquillo tranquillo Prendi questa tu Prendi questa Andiamo qui Prendi quella bianca Comunque io non ho la pistola Che numero sei? Vieni qua 183 Munizioni le hai? No Grazie Prego Ti ha sentito cosa l'ho detto? Questa rock band Che i bambini buoni solo Insultare Dovrebbero solo Piovere Perché mi boom Ma la voglio di vedere E ricordarmi Nessuno Nasconde di tutto Ma Carmine ma che cazzo Stai dicendo Ma per favore Ma riprenditi anche tu Ma che cazzo Stai dicendo Carmine Ma chi richiami Abbiamo due richiami Passione Cosa vuoi ancora? Vuoi bannarmi? Banno Gioca da solo Tu ti metti lì Tutta la poltrona Tranquillo Fai il capo di tutti E tutti quanti andiamo a farmare Bella la città così Vero Carmine? Bello giocare così L'RP Ma per favore Ma perché non vi riprendete? Manco fossero soldi veri I vostri Manco fosse Roba vera Quella che avete nel gioco Manco fosse Che morite veramente In vita reale Ma perché non vi riprendete Un pochino Iniziate a giocare? E' la stanza 9 Hai preso? Una città nuova No è un appartamento Bravo Bravo Accorda? Madonna Io ce l'ho bella Indrattata Regasso che è passato nero Il nostro Buonissimo L'RP fidati È quello che si può pensare Bravo Giovanna Tandigero Partiamo anche Nel RP Vediamo quanto vale Ma no Alcuma dai Non alimentiamo anche il flame Per favore Contro sta gente Raga Buonasera bro Carmine Comando stagione E come bianco Sono da casa adesso fa poco Argone amore mio Buonasera Come stai? Cioè siamo Per prima rivolto praticamente È a casa Guarda di inventare Sì Guarda ragazzi Guarda di inventare Ma Guardate mi sono rotti i coglioni Quindi per me adesso Ormai me ne sto a casa Se rimane gli sbirri Prendo un cannone Spara tutti Me ne spatti i coglioni Adesso Faccio un RP Capite il cazzo Perché tanto Purtroppo Non posso far diverso Mi trovo Un po' d'accordo Con le varie Chiacchierate Che abbiamo fatto Con Argon Tutti questi giorni Ti fermi O ti devo staccare Lo sportello Cosa Cosa Dove A casa L'844 Sì ragazzi Ma siete arrivati Dopo un'ora e mezza Abbiamo un carico di 5 kg Che cazzo Arrivate adesso È mezz'ora che siamo lì E che possiamo stare In mezzo alla strada Eh appunto Mi dici Sto fightando con la pula Ci vediamo dopo Eh non è che posso stare Aspettare con un cambio Di 5 kg Eh lo so Però Non posso neanche aspettare Con un cambio di 5 kg Capisce a me In mezzo alla strada Ragazzi Abro Abro Diri che scherza parte da Adiagato Un po' di una strada A gente tocca Ah 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 Pignano Non c'è più benzina No ma non è quello Argo Non è quello Adesso non carichiamo Le cose che non devono essere Però sì Cioè diciamo che Sono cose che Boh Non so perché Non ti fanno fare Boh Ci sono cose che vanno Cose che non vanno Alcuni fanno Alcuni non possono fare Sono troppe cose che Diciamo che siamo un pochino In In disappunto Di idee Su alcune cose Quindi boh Facciamo l'RP Che si può fare E buona Cosa dobbiamo fare Non è che possiamo Almentarci l'acqua calda Se tante cose Non si possono fare Passano più tempo Qui In live A guardare Che in game Per questo Non mi dici Ma no Ma io non voglio litigare Con loro Fai fidati Cioè con N C'è anche un bel rapporto Non lo so perché Arrivano alcuni qua A dire queste cose qua Ragazzi Sono sincero Perché comunque Nico sa tutto Abbiamo anche chiacchierato E non penso Che se la prenda Così tanto Se per caso Dovesse Io con lui La guerra Non l'ho ancora fatta E vi devo dire Che in NRP Ci sarebbero i presupposti Per quei ritardi Per quelle cose Ma per adesso Stiamo cercando Semplicemente Ragazzi Di dare un po' Di scossa A questa cosa Per non romperci I coglioni A farmare Tutte le sere Io c'ho una fazione Numerosa Non li posso Ma adesso Lei cambia Si rompono i coglioni Guardate stasera Quanti sono Sono la metà Della metà Di tre sere fa Quando c'era Un po' di casino Da fare Quando c'è da fare Ragazzi Arrivano E vogliono giocare Ma se tu Non li fai giocare Raga Li mandi ai campi E basta Questi Se ne vanno Io non so più Come dirla Questa cosa qua L'RP L'RP non è fatto Purtroppo Solo di persone Come me Come Aez Come lo zio Come Alve Che sono persone Che fanno full rp I cosiddetti Chiamati puristi Anche offendendoci Per carità Che facciamo L'RP Parlato Ormai In questo mondo Dell'RP Di Fai Vem Ci sono anche Tantissime persone Che vengono Per sparare Se tu a questa gente Che viene per sparare Gli fai stare Tutta la sera A fare incontri E ai campi A farmare Ragazzi Si Stufano E ci lasciano A piedi Perdiamo la fazione Perdiamo Player All'interno del serve Sta cosa Si vuol capire O no Non si vuol capire Ebbene Continuiamo a restare Quelli che siamo Io che cazzo Ci devo fa Pronto 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 signore Buonasera signore Sono Hector Come sta? Piacere sentirla Tutto bene Tutto bene E' un po' più rilassato Di ieri Ma si Guardi Tanto A volte Arrabbiarsi Non serve a niente Assolutamente Anzi Si alza la pressione Per far male agli affari Quindi non glielo consiglio Comunque Noi siamo già posizionati Finiamo Un altro carico Voi siete i terzi Quindi Tra cinque minuti La chiamiamole Diamo un civico Ok Allora mi preparo A prendere i soldi Tanto i carichi Voli preparate Già nei mezzi Giusto? Quindi non serve Che mi organizzano Assolutamente Si Se ricordi Come lavoriamo Assolutamente Mi preparo I soldini E arrivo Salve Grazie Molto bene Salve La fattura Perché volevo il mio avvocato No no Ma qua io metterò pistole Normali Ragazzi Mangiare E bere Boh In modo che voi potete venire Fare come potete fare Deve farci l'accendere Sì Sarò un attimo Oh ma tutte e due assunti Dovete essere Quasi la tua Ma vabbè Sei a posto Quello che hai tu Come fondo Vieni te qua Chi deve essere assunto Vieni con me Oh ciao H Oh ciao fratello Andavo riconosciuto Oh amore mio Te hai dietro Vabbè un pistole Per caso Per caso Eh No frate C'è una sola Non è cammino Qua dentro ci sono Un pistole Sono dieci pistole Qua dentro Beh che ho messo Messe io E io Ci sono Allora andiamo a prendere I soldi al mio appartamento Ma come voi Sono te lo detto Teniamoli lì Eh prendo io di nuovo Ma no è già poi Cosa facciamo ancora Ma vai tranquillo Michelo sai No abbiamo parlato Giro Vabbè ma me le già dati Una volta che cazzo me li devi Da di nuovo Eh ma li teniamoli come fondo Metti che io Per ogni motivo Per qualsiasi motivo Capito Parisi Poi un fondone Fidati fidati Cazzo me ne faccio io Andiamo Tu non Parirai per nessun motivo Fratello Forse non hai capito Eh vabbè ma Capito Qualsiasi davvero motivo Anche così randomico Capisci a me Cioè No andiamo Andiamo Vai tranquillo Andiamo Il problema Mi sono fatto due calcoli Sicuramente saranno due piccoli Eh sicuro Se invece ci portassimo Invece di quella merda Che ci danno loro Portiamo due camaccio Io uno l'ho comprato Eh ma loro ci danno anche Tutta quella roba con Antiproiettili e tutto Ah allora andiamo Dai dai Sì sì Ragazzi Che novità Sì dobbiamo andare a prendere il carico Solo una cosa proprio Io Proprio papale Parpale Quaranta Quaranta minuti Sì ma hai detto che cinque minuti mi chiamano Loro sono precisi Ah ok Allora iniziamo a scendere Giù io e tu O comunque con qualcuno Ma sto camion Alla fine Già no Ho già scarpato tutto Ok A posto Allora raga Non lo vedi Ci scortate un attimo Andiamo a prendere il suo carico di armi Ok Io non ho colpi però Come non ho i colpi E vai Mi ha frappato adesso Vai con lui con l'armeria Te li fai dare Eh Ciro Porta poi Dimmi che ti devo portare Porti poi Non ne so 50 pacchetti di munizioni Buttali da dentro per favore 50 50 Solo 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 1 mm Ok Ah già è vero Dobbiamo comprare anche i colpi del resto Eh prendi anche da mangiare e bere No ma ti ricordi l'altra volta Tanto loro li danno di Di Sopra Certo ce li vedi ce li danno Anche se non glieli chiediamo Perché tu rubi Sei assunto Tu rubi Mi sembra che ci abbiamo solo una ventina di pacchetti No no non ti preoccupare per quello Tanto vedrai Prima andiamo da loro Ma vedrai che come l'altra volta Poi andiamo lì Date solo un pacco di munizioni Poi le pistole Non ce le diamo raga Te l'ho passata a te Che è H e ora Sono senza Io ne avevo solo Vai il circo dammi il numero No a me non mi dà Fai preso questo Dammi il numero 1 2 7 Un pacco solo che serve Vai iniziamo a scendere Vai con lui un attimo Ti fai dare qualche di munizioni Andiamo Ok andiamo Quanto ti hanno detto? 5 minuti 5 minuti Cerco di fare il più presto possibile Vai vai Guardiamo anche C Ah no C sta andando con loro La macchina mia dove l'era? Piuttosto che stare in aspetto Che cazzo per vero per la macchina C Non sapevo quello che lo devo dare a quegli elementi Molte azioni Azioni invece Giocano a GTA nascondino Esatto vinci Questa cosa qua è una rotola di valle poi Perché poi alla fine non crea l'RP Guarda Aspetta che Guarda In caso attaccano Quando lo possiamo mettere in cura Mistero eh Il programma Un po' da 4 camacho Andre Mi è andato a delegati Non fate riaspettare che si chiama No mi devono chiamare ancora La forte camacho Bella Andreone No non ci sarà nessun camacho Andre Amori mie ma com'è stasera Che siamo così mosci Non ho capito io Così così mosci Tranquilli Zero like Zero stelline Tutti bevi tranquilli Che è successo? Non ce l'abbiamo ancora però Appena mi chiamano Ma Io mi dissocio Ai 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 Questo è bruciato Porta Più che bruciato Si è bruciato lo stop Ma annaia a lui No senti il tuo rumore brutto Ti prego dimmi che non è l'arruota buccata Grande Hammer Grazie delle 50 bombe Andreone Male Male Andreone Male anche tu Grazie Andreone Grazie di cuore 9-2 9-2 9-2 9-2 Perché ta? Ah guarda la mia proprio Sì si è spiccicato Apri apri A vero aspetta Mi piace il nuovo look ragazzi che abbiamo creato? Ci siamo Bella 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 Ma devo prenderli da qua? No ho già fatto Bella Fabione grazie per il like Quello mio Benvenuto Tranquillo anda Ma? Aspetta Vai ora Ma che cazzo? Ah no ok ok Pensavo fosse passato un meccanico me lo avessi riparato Invece no 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 Non è passato a nessuno Questa è tutta ammaccata Ah ah E' mio fratello di Darko davvero E' così lui Ma vedete che non ho mai più guardato una Davy di Krab Ma non c'è il cazzo Non ti sentisci tanto scusami Ma la figura di Jonathan Allora lo cambiamo ragazzi Se non vi piace lo cambiamo eh Se volete poi andiamo a farlo insieme Oggi non sapevo che cavolo fare L'ho fatto Allora lo cambiamo Brunano E' bello togliere i capelli Gianlu ti piace a te? Allora vedi Ma dove vai adesso? Eh qua su uno Casa? Ma no Ma tanto gli altri in teoria doveva essere andati a prendersi le pistole tutti Allora andiamo Facciamo già una ruota E' ci andiamo Allora Dici che ci chiamano per andare al nord loro Eh lo spero Lo spero Così capito è pop la strada che dobbiamo fare Gianlu grazie per il like bello mio Ma Lui è solo un po' più chiaro Cioè non che mi dispiace anche dentro la città Però dentro la città passare con quelle cose Hai visto prima non so se hai distratto un attimino Magari ti stai guardando allo specchio per quanto sei bello capito lo specchiato Però quando siamo passati in fronte lì al negozio dei telefoni era pieno di macchine Pieno Macchine? Ah finalmente C'era un po' di colore Un po' di colore Un po' di viola Un po' di quadro Un po' di giallo Posso usare anche un portale Però è su un macchino Eh dipende ragazzi come sarà poi la mappa e tutto Bisognerà vedere ragazzi perché comunque la V4 sappiamo per adesso Alvece ha spoilerato Solo che sarà il primo settembre Segui in assistenza via Tu ancora non ti sei cambiato vero? No Eh no Hai ragione tu C'ho la maschera Come ci vestiamo ragazzi per andare a questo incontro secondo voi? Manetta a maniche corte è una Quanto stai bene con questi capelli o con le maschere quelle che Sto come vestirmi Aspetta che mi metto anche mi dici il numero della camicia di colore per cortesia Mi metto questo guarda Aspetta aspetta tanto abbiamo un attimo di tempo Vai a vedere In grigio Minchia Eh e adesso mi metto questo e mi dai Aspetta un attimo Allora può ricambiarmi il colore della Ragazzi ma non c'è niente un'armaria aperta Eh ma vedi cosa mi fa L'armaria 200 Metto la giacca Eh è chiusa Eh sto a casa frate Sono andato adesso a fare un servizio color Guardate che figo sto outfit Che ti serve? Che ti serve? Eh cacchina così non lo fa Sono a casa Che camicia hai tu sotto? Che? Che camicia hai tu sotto? No no la camicia ho il dolce vita Eh il dolce vita Quale hai? E che ne so Perché vedi? Questo non è perché Mi escono le tettine i capezzoli Allora dorso 31 T-shirt 75 Ah 31 T-shirt 75 Sì E ma mi hai fatto cambiare un culo a te Ma non capisco che fa queste robe qua Voglio non capire Ragazzi voglio non capire Non c'è nemmeno money Cioè non abbiamo niente Come vi voglio non capire? Scappato Niente C'è fake pilot C'è un cazzo di bordo Sì raga veramente Sei un grande cingone Dai datemi un civico K che arriva Ricorda qua A quanto ora abbiamo seminati? Quanto? Abbiamo seminati i volisti Ma le dar mancia la pistola Non c'è munizioni Noi cittadini per l'altro Oh dimmi un civico Le hanno seminati Ma perché io Se no Non Non Grazie Eh grazie Scusami ma noi che facciamo? Ragazzi dovete temporeggiare un momento Che mi danno civico Dove andare a prendere il carico d'armi Potete temporeggiare un momento? Trovarvi qualcosa da fare In questi 30 secondi Eh c'è qualcuno che si deve prendere le munizioni Vai al 200 Dagli le munizioni a quello lì Che si lamentava Deve andare a prendere le munizioni Ok 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 Sì grazie Gio vai al 200 A prenderti le munizioni Sì Sì Ma ti rendi conto Io cosa devo fare Ma io veramente Devo fare così Siamo da te Eh lui Ah lui Sono lui strumento Ah ah Dive contro te Le ha detto che a fare Eh Tu ti rendi conto Che io devo fare questo Ciò che vi scandalizza Che non avete figli E li conoscete comunque Sì Quindi Mi chiamano Più figli che anima Più figli che anima Mi dia pure il civico signore Al 3002 Al 3002 Arriviamo subito No 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 Tranquillo 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 A tra poco Ragazzi al 3002 Bisogna andare Dove siete? Sono al 3002 Eh dove stiamo cercando Ma ci incontriamo qua Alla centrale elettrica Se vuoi andare tutti insieme Dove? Qua la centrale elettrica E al? Te lo dico subito Quanto cazzo mangiate? Bratello Ti telefonavo Non le funzioni 1049 Sì 1050 Ok Non arrivo Ma spero il 3002 Dove? La montagna La fara egna merita Ma ha detto Vediamo c'è il 149 Con gli altri dai 949 E dietro Dietro di noi Sì E questa la stata da fare No per andare al 3002 No 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 Noi andiamo verso Il 3002 Intanto Poi un po' prima Ci fermiamo Egliamo dove siamo Ecco Tanto loro sono ancora 200 figure Ti ricordi L'ottava marcia di oggi? Possiamo provare Giovanna Possiamo provare Con sfumature Rossi Con sfumature Nere Mi si è rotta la frizione E non va più Maschera nera Ah guarda lì La maschera del principe Dai Comunque Ma come sono finito In mare Ma io non posso Sentire queste cose Ok Andre grandi Venete tutti con me Così Non ci guarda più nessuno Però Votiamo il canale Tutti in gravo Abbiamo lo stesso Se non lo farai vice boss Sì Sì Non so perché stasera Non c'è nessuno dei miei ragazzi Io boh Non capisco Perché siamo in quattro Mo stasera Ah che palle Non li capisco Questi traiardini Entrano in 21 giorno E il giorno dopo Sono in quattro Va bene Fabione Dai Oh se vuoi Per io ci sei Sì Se non vuoi Manca per non perdere tempo Liquidare il civico Direttamente Dove aspettare un attimo Facciamo la transazione Ci facciamo venire a prendere lì Fallenermi lì È zona safe Capisci a me Oddio Ma che cazzo Ma si è schiantato Un aeroplano A fianco a noi Non l'hai visto No Io mi disso Certamente Da tutto quello che ho visto Poverino L'anima che c'era sopra Quella Dove siete polisti Io sono a Quattro tirometri Da tremila Bello Ma stai Bene Tutto bene Sono andato a ritirarmi Un carico d'armi Grosse Dal mercato Dal mercato Nero Scusa Cosa gli è arrivato Di altro Mk2 Eh sì Ho preso un po' di mk2 Un po' di carabine Un po' di pd Non c'eva niente C'è un limite C'è ancora il limite Mi pare di sì Erano 5 ogni due giorni Se non erro Dov'è che andate anche io Va bene Te le hai Un po' sì Mi ne è rimasta una Ci prendono Dove Perché sto Finendo i soldi Sono rimasti 2 milioni e mezzo Mannaggia il cazzo Quanto ti serve No 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 Ma ce la facciamo Abbiamo Beh ma tanto ti devo Tu quanto mi avevi dato A me 6 milioni Più 5 giusto 11 milioni Ti porto a 5 milioni Più tardi Faccio che farci il cambio No no Se stai messo male Ma stai tranquillo Te li porto più tardi Tanto Cioè Argone Porto è pieno Siamo pieni Stai tranquillo Più tardi Ti porto intanto Sti 5 milioni Ti faccio io il cambio Poi me li faccio cambiare Io da loro Appena ho finito Sti pacific Ma voi con le pacific Fate qualcosa? Vuoi che siamo in pochi Molti sono andati via Capisci Per io lo cazzo Ok E vabbè Eh niente Vado a sparare un po' Vuoi di sparare Ciao bello A più tardi Ciao A più tardi Ciao Dove state? Dove siamo qua? Dove state? A 2 km A 3.008 A 3.008 Guarda che io non sono ancora dentro il 3.002 E' affermati un po' prima 3.002 o 3.008? No 3.008 No 3.008 Di li li che qua dietro proprio È al polloio Ma 3.008 dobbiamo andare Eh ma di li 3.008 Vediamoci al 3.008 Tutti quanti Poi andiamo al 3.002 Ok E' proprio qua il pollo Cioè come cazzo si chiama La mazzapolli Lì il matatoio Quello che Mazzapolli Devevo portare a pilota fake E' anche il cliente Ma è sì Beh sì Ahah All'amazzapolli è troppo bello Però è sentito prima la coppia che ha fatto questa ragazza Stava vedendo questo di qua C'erano 10-11 macchine blu Dove? No ero su telefono io Stavano venendo verso questa direzione Infatti non mi fermo Al trimilato non ne vedo mica io si guarda che poi è un po' più indietro vicino all'uscita bella giusteppe bella marco grazie gianlu grazie per i like ragazzi e fabione noi siamo nella merda perchè se i ragazzi di arco anche sono andati e vedete facili come cazzo le facciamo e viene ci sono i suoi neanche è questo proprio basta un portatile sicuramente raga basta un portatile esatto non è che qualsiasi portatile bello mio buonasera buonasera pezzo di manzo ciao marcone come stai il kit per assaltare la pacifica si l'ho presi l'ho presi dovete giocare sul portatile e continuate a giocare installate tempo zero dipende ragazzi allora se il portatile comunque ha una 3060 ti e ha un un processore buono buono non so un raisen 6 o comunque cazzo ne so un intel i7 così bene anche il portatile l'unica cosa che vi si scalda quindi vabbè chiaramente giocate la sera un paio d'ore poi d'inverno fa che lavora una cosa un'altra non è che sia tutto il tempo del mondo e quindi si potrebbe bastarvi se avete un portatile con 3d ram una scheda video a 2 giga e un processore normalissimo non ci fate nulla lo stesso capite non è la questione di portatilo fisso la questione è quello che c'è dentro poi sicuramente in ogni caso tipo quello che ho io una bestia di pc già persona radiatore a liquido e tutto quanto è una 380 dentro e finchè ce n'è posso stare attaccato otto ore che ho fatto prima io ma è arrivato il trocione signori il trocione è arrivato un lupo di merda attenzione è arrivato un lupo di merda ciao lupo di merda allora ma che fine hai fatto sono ripreso dai e adesso ti faccio estrarre ma che figo devastante di la verità vuoi limonare vuoi limonare dillo c'è già la lingua fuori ecco bravo vabbè dove sei finito ci sei mancato dopo il chiotto maledetto e gli altri ma io sai cos'è che non capisco tanto tipo ieri sera e l'altra sera eravamo tipo in 25 e non riuscivo a tenerli non sapevo più cosa fargli fare stasera siamo in 4 o 5 credo boh fortissimi eh però squilibrati si? si si forti sono forti ma veramente forti casa che cazzo è successo che non c'è più un cazzo un casino se no la polizia ci ha saltato casa ma ciao quando noi non c'eravamo si ma che due palle eh però è andata bene due cose cingon non so come cazzo abbia fatto si è ficcato negli inventari aveva preso tutti i soldi sporchi che avevamo i soldi puliti li ha portati in salvo io il carico della meta di 5 kg li avevo lasciati dentro il ah dobbiamo andare dai sono arrivati siete arrivati raga dai che andiamo io ho sì mi hanno chiamato un'ora fa ma perchè dobbiamo aprire andiamo andiamo voglio piangere vabbè stiamo iniziando ad andare raga c'è un ora che ci stanno aspettando dai voi aspettate all'inizio dell'entrata della segheria e appena abbiamo foto che chiamiamo venite lì no ormai le hai fatte venire fino a qua fra mi devi dare giri dobbiamo andare al 3000 2 ragazzi 3 002 venite lì arriviamo dai bella no sto andando piano guarda 39 35 ma ti vorrei vedere io nella vita reale con un McLaren di questi se vai in una strada così tu allora non avrei bisogno di andare in una strada così e dipende cosa fai nella vita e dipende cosa fai nella vita buonasera signore buonasera buonasera ma alzati sti pantaloni sozzo sono incollati eh ha detto che sono incollati quindi ma che se l'è fatta addosso vero signore eh se vai un po' più giù con i bambini eh ma ragazzo ha detto non ho soldi per comprarsene ma dove stanno andando ragazzo senza soldi va in giro con le botande di Gucci secondo lei non sono di Gucci sono di Gucci vieni al 3002 però non si può eh cosa faccio gli dico agli staffer del mercato nero che devono cambiare posto eh bro è un punto capisci a me che non è tu vieni fra vieni fra ok eh bro perché capisci a me io ho non so the power o the fail ehhh so the full ehhh è veramente desolito tu lo sai oh cazzo la legge si è aumentata siamo entrate vabbè vabbè buonasera un attimo che aspettiamo tutti signori così saliamo tutti insieme ok ma dall'altro con la mano alzata che fa salve la tia ma perché stai meglio tu quindi? si si per fortuna mi è passata sta caccata? eh si stai negativo adesso? dieci giorni si ho messo dieci giorni va bene quando vado a porta ma non vengono qui? pollo guai yeee guarda che belli guarda che belli 120 giorni per il nostro Antonio esattamente invece quant'è? eh l'hai scritto male Andy? prego no buonasera ho fatti dire i gioielli e i lingotti da qualcuno ho fatti dare i gioielli da qualcuno io sto carico che diventa testa forse è stato eh non puoi malo mannaggia al cazzo ho dovuto trovare qualcuno che ce li ha e se riesco a farlo sarebbe bello un pezzo di merda un pezzo di merda oddio esatto mamma mia veramente magari guarda che gruppo di puristi che c'è qua dietro ah bro cazzo ma che bete no 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 ma che bete te metti? a quale bete te di rientrare l'armadio per vestire i peccoli da cazzo oh tu fake pilot non parlare che ti ho riconosciuto che eri tu solo perchè camminavi storta manco quello che ci ha fredito oh cazzo ho un occhio bendato e porca ma si chiama dato bernard, enrico, marcone, giuseppe grazie per i like raga aiutamo e che faccio? io posso rispondere in faccia a questi io scrivo di me no 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 esatto nuot1 ma c'era anche da uomo sto gilettino che ti sei messo capò c'era anche da uomo su gilettino ho in obelito fuori NOOO aiea pò amp Marie nuestro chapter il mio ragazzo la mette per far vedere il piercing all'obelico prego seguiteci pure grazie buonasera signor macete buonasera signor rector buonasera signor rector preferisco signor nobile principe ormai ha fatto tutte le cariche no no ma io ho salutato signor rector e anche il signor macete che ormai fa parte che sono la stessa persona io invece sono Fabiore che sono la testa buonasera come stiamo signori bene bene adesso che avremo di nuovo l'inventario bello pieno e si può parlare di questo nel senso quello che ci ha accennato ieri sera poi i signori avevano particolarmente fretta probabilmente dovevano prendere le medicine per andare in bagno quindi ci hanno interrotto ci stava accennando a un problema eh si signore purtroppo l'altra sera c'è stato un problema mentre noi eravamo a fare un interrogatorio dentro casa nostra c'erano dei ladri che si stavano rubando tutto ma era la polizia ladri indiviso no? posso interrompervi un secondo possiamo spostarci da qua perché c'è un rumore della... ah sentite eh eh un po' più avanti scusate qui si è diventato brutto all'orecchio fine ragazzo eh sai non so non so bene dove non ci sia rumore no? non è un po' non è un po' non è un po' se fosse vero basta che vi girate signor principe piccolo lei li paga i suoi ragazzi? no signore ah ok no perché vedo che non hanno neanche la cintura che ci mostrano tranquillamente la biancheria ma gliela è interessante c'è uno con le mutande appese c'è l'altro con l'ombelico di fuori purtroppo che è rimasto lave no capisco che un altro corregido di filo di nanzo in questo momento deve guadagnare in qualsiasi modo ho capito grazie ho capito come non ci sta signori ci allarghiamo un po' che mi manca un po' l'aria sembra che grazie ehm quindi e niente se questi ladri indivisa si sono rubati tutto mi hanno svuotato gli inventari quindi ieri non avevo tutti i torti quando dicevo che erano loro i criminati eh no infatti avrei voluto intervenire a dirglielo eh però non volevo calcare ancora la tensione bell'attesa che già c'era tra voi e loro quindi mi è sembrato giusto stare al mio posto diciamo che veramente hanno fatto una roba che si fa nella criminalità signore ma sono certo che gli renderete il favore eh magari signore beh non ci va a fretta a farle cose fatte bene ma quindi loro bisogna farlo il motivo è quindi banalmente loro sono entrati hanno preso quelle dovevano prendere giusto si hanno preso tutto e di loro hanno fatto le cose di fretta ovviamente cercando interessante si 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 hanno preso tutto 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 se ne sono andati signore adesso ne ho proprio postato non gli da più le armi probabilmente eh si però guardi per fortuna avevo alcuni carichi ritirati in dei camion di droga e qualche soldino siccome loro pensano che la criminalità sia solo fare soldi sporchi ma un buon criminale ha attività legali dappertutto certo hanno colpito ma hanno colpito praticamente nulla perché ad esempio a me mi hanno arrestato e mi hanno dovuto fare una multa di 10k per detenzione d'arma illegale signore queste sono le prove che avevano su di noi hanno fatto un buco dell'acqua grosso come non so cosa diciamo che ci hanno tollo scalfito niente ah non solo più che altro ho rotto le balle come vedete adesso devo chiamare voi di farmi ridare questo carico devo andare soldi ne ho per comprarmi tutta la città signore per fortuna e noi siamo qua per ridarvi allora quello che vi spetta adesso ci compriamo questo carico anche perché sennò poi diventa troppo casino su trasportare prossima settimana ne faremo un altro uguale e vabbè e ci rimettiamo a posto bene che dobbiamo fare che impressione gli ha fatto ieri sera signor Mike a me io glielo dico proprio fuori dai denti signore a me ha dato l'impressione che stesse coprendo spudolatamente signor Alvega a voi no lei con il signor Alvega non va d'accordo si io vado d'accordo con tutti signore però vede quando ci sono delle cose che non mi tornano così evidenti all'occhio delle persone non capisco come tante persone non se ne rendano conto anche perché quella situazione lì l'ho creata io Martinez l'ho trovato io perché avevo rapito Mike Dea tutti quanti mi sono fatto dire chi c'era dietro sono andato a rapire Martinez e ho fatto tutto il puzzle perché il signore Alvega che è stato arrestato una sera gli hanno detto mi ha chiamato tutto incazzato mi ha detto principe tu mi hai infamato la polizia io? io non ho mai parlato con la polizia non sono mai stato arrestato come avrei potuto e lui mi dice ho qua un fascicolo davanti a te che c'è scritto che tu quando sei stato arrestato alla pacifica hai cantato con gli sbirri la cosa divertente sapete quale signori non ho mai perso una pacifica allora inizia quindi ho paura che il signor Alveak parli un po' più del dovuto eh ha tante informazioni strane signori fa cose che la polizia faccia dei documenti false esatto però sa signore qual è la differenza io cosa ho fatto mi sono messo in cerca di chi avesse fatto delle pacifiche ho rapito tutta la gente che c'era in città ho messo i miei uomini come cani rabbiosi in giro per la città ho rapito quella sera 26 persone mi lascia indovinare solo il signor Alveak fa le pacifiche no anche il signor Jay Martinez con il suo gruppo i glory e quella sera quando ho detto è morto quando li ho trovati mi hanno detto che loro avevano delle pacifiche allora ho iniziato a fargli delle domande è solo che la cosa divertente che sapevamo perché uno dei miei uomini era stato arrestato una sera e davanti alla sala dell'interrogatorio avevano fatto il nome dei fratelli Martinez che erano collaboratori di giustizia l'ha potuto sentire con i suoi occhi davanti alla porta dell'interrogatorio allora gli ho parlato mi sono fatto sputare tutto con un po' di pistole portate in bocca e ha raccontato quello che è successo ieri signore sai cosa è proprio la cosa che a me ha fatto sembrare che lui lo coprisse quel filmato che poi si è deciso lui a farci vedere no sì alla fine quel filmato lì il signor Alveac l'aveva già visto giorni prima e in più è un abitui della questura quindi il signor Alveac mi sa di sì e in più io sotto rapimento il capitano Mike più e più volte anche ieri sera stesso ha detto che lui non era in possesso di quelle cose e Martinez l'aveva visto una volta quando sono stati messi al padibolo anche Alveac il nonno e tutti gli altri alla fine gli è venuto in mente di prendere sto video e scagionare chi secondo me gli faceva comodo quando è stato detto al capitano Mike gli ha dato il vostro numero lui cosa ha risposto che non si ricordava faceva il vago no? vi ricordate? chi è che ha detto che gli ha dato Alve il vostro numero? l'ha detto lui stesso? sì e quando l'ha detto cosa ha detto capitano Mike? no non è vero non me l'hai dato tu secondo lei perché visto che sembra che lo conosce più di noi il capitano Mike non ha voluto fare un accordo pacifista con noi e quindi di conseguenza con tutti voi anche perché ovviamente il concetto è quello lei sa bene come lavoriamo o è uno donatamente etico e quindi segue il suo codice etico ma non mi sembra oppure secondo qual è la sua idea di questa situazione vuole veramente una guerra io penso che si voleva solo salvare il culo ieri sera lui secondo me non vi lascerà mai in faccia guardi per il momento io vivo tranquillo vado tranquillo a casa faccio tutto quello che vuole molto tranquillamente anche perché le mani avanti le ho già messa si ritroverebbe un'intera città ma ti lancia granate contro di loro quindi semplicemente mi sembra molto furba come cosa più che altro il suo uscire in denne ieri sera e tranquillo sarebbe arrivato molto più in creta stringendo un accordo con noi dal momento che uno fa un accordo sarebbe sicuramente uscito molti punti di domanda poi lei sa che noi viviamo un pochettino con l'imparzialità con la neutralità quindi queste cose non ci interessano minimamente poi capisce che dal momento che veniamo nominati o tirati in ballo iniziamo un pochettino a manifestarci o peggio venduti eh qua siamo stati venduti certo infatti infatti come lei ha visto l'abbiamo detto molto chiaro ieri avete bloccato il signore dei glori non avrebbero avuto più niente numero uno e numero due se lui non fosse morto l'avremmo ucciso noi semplicissimo cioè ma io quello che a me mi dà tanto da pensare in questa situazione qua capitano Mike come il discorso che lei ha fatto ieri non faceva una piega no? siete uomini di un onore state servendo alla criminalità senza andare fuori dalle righe no? facendo le cose fatte bene in una certa maniera perché si ostina ad avere vostre notizie e vuole sapere cose su di voi? magari vuole diventare cliente visto che vi ruba le armi in casa magari non hanno abbastanza armi lei pensa che c'è qualcuno scusi se mi informate pensa che c'è qualcuno che le stia mettendo sta pulce nell'orecchio? no è proprio un dato di fatto che lui vi sta cercando proprio come con fame no? cioè lui aveva per le mani una persona condannata all'ergastolo poteva giocarsi qualsiasi carta con questa persona avere informazioni di qualsiasi persona che informazioni ha chiesto su di voi? che siete quelli che a mio parere ora come ora fate il meno male per la città no? secondo me no ci sono un'organizzazione più grossa scusami il secondo però principe invece no perché chi ha il potere più grosso è l'arma secondo me e se loro forniscono queste cose un po' diciamo che loro devono diciamo che il signor Mike teme più che sì ma se io io da capo della polizia avrei cercato informazioni sul capo della criminalità tu fermi la criminalità e fermi gli affari delle armi la gente cosa se ne fa? evidentemente lui pensa di arrivare là prendendo chi vende le armi però pensi a un discorso inverso se noi dovessimo fermare il traffico delle armi cosa succederebbe? non ci sono più armi in città non ci sono più armi di grosso calibro signore ma le guerre si possono fare anche con le armi piccole le banche le rapine le sequestre di persona cioè la criminalità va avanti uguale e tu pensi che loro se se gli fermano diciamo se gli fermano il contatto diciamo il contatto in questa città loro fanno secondo te fanno vendere le pistoline dentro le armerie con la potenza di poco che hanno questi signori secondo me no ora ho raccolto ovviamente la cosa principe dica di la vera cosa che rimane sempre col punto di domanda è l'altra sera quando li abbiamo beccati tutti insieme Dea il capitano Mike i poliziotti e Albe Iac e il nonno ma te l'ha detto perché almeno vabbè quello che ha detto lui è perché stava vendendo l'oro perché stava dando un numero di telefono l'oro perché il capitano Mike lì teniva in pugno per la storia delle gas il problema per il capitano Mike però è che se ci trova il problema è poi tutto il suo perché succede un casino e se noi non diventiamo più neutrali per lui i problemi che ci sono adesso sono niente rispetto a quelli che ci saranno perché noi gli daremo la caccia ogni giorno tutte le ore del giorno della notte la centrale di polizia la riempiamo di C4 lei ragiona stra bene signore mi trovo sempre d'accordo con i suoi pensieri e quello che dico allora perché cazzo cerca voi e quando aveva una cosa così importante non ha chiesto informazioni di persone più in alto cioè nulla togliere a voi ma io fossi stato un capo della polizia avevo una cosa così per le mani che mi doveva dare per forza qualcosa avrei chiesto informazioni sul cartello ma il cartello non è secondo il mio pensiero signor principe il cartello sta al pari livello del mercato delle armi sono business diversi sì però se tu fermi il cartello fermi noi fermi quelli sotto di noi fermi quelli a fianco a noi ma comunque armi girano armi girano ma al momento non hai più affari da fare perché se io vado a fare una rapina chi li porti i soldi ci sarà sempre un'altra persona eh ho capito però intanto si deve riformare tu cioè capisci secondo me non so fermare le armi era secondario a mio parere poi io ragiono con la mia testa ognuno ragiona con la propria avrei ragionato diversa io avrei fermato prima tutti i mercati fermando il cartello e poi con le armi che cazzo ci fai secondo me le domande che ha fatto il Sottomit scusami no stiamo ragionando secondo me continua a restare della mia idea che ieri abbiamo offerto determinate cose che non è nostro solito modo offrire è stato negato è stato quello che è stato detto noi torneremo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi e che continueremo a fare semplicemente ciao Masi poi se deciderà di rompere ancora i coglioni e qualcuno deciderà ancora di fare il nostro nome o provare a cantare determinate cose siamo brutti canteremo tutti quanti assieme per me si ha chiesto di loro direttamente per me è paura secondo me beh io spero ne abbia paura perché dopo ieri sera credo posso aver capito chi li può girare contro tutti quelli che erano lì se si mettono d'accordo per far fuori la polizia in dieci minuti non esiste più niente in città c'è l'anarchia esatto quindi deve stare un po' al suo posto e anche questo è il problema cioè se voi mi dite principe dovete abbattermi la polizia perché ci sta rompendo i coglioni io ci vado instant perché a me il vostro rapporto serve tantissimo ma non credo sia così stupido il signor poliziotto elegante non credo sia così stupido signori adesso ognuno deve fare il suo e vediamo un po' come si muovono ma se cominciano a dare troppo fastidio allora toccherà fare qualcosa scusate signori potrei interrompervi in un secondo certamente ecco la calo di zuccheri colpa della glicemia vorrei passare la valigetta se possibile a uno dei ragazzi sì certo Joel fai vedere i signori il carico vedi controllare il saluto a posto e poi fate lo scambio prego qualcuno che venga a controllare il carico vai 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 tu con la valigetta lo dè ok prego venga pure gli dai anche i soldi quindi signori vediamo un po' come si muove Mike su uomini se pestano i piedi sbagliati toccherà muoversi un attimo curiosità adesso queste armi avete delle altre case in giro spero ma adesso le ho preso un magazzino signori le metterò in un magazzino certo l'ufficio e le teniamo lì quando ci servono per fare determinate cose andremo a prenderci però ho deciso che da stasera ho deciso che da stasera riabiterò la mia casa come se niente fosse tanto non posso fare casa un po' come la famiglia no? esatto territorio sacro sacro santo e poi se verranno a rompere le palle di nuovo la prossima volta spero che verranno quando arriverà qualcuno saremo magari in casa e ci possiamo divertire anche noi questo è sicuro fateli mangiare un po' di piombo sì signore ma tanto loro pensano che sia finita qua ma tutti i giorni città regnare al caos contro la polizia da parte mia magari la situazione è sbagliata ma non hanno manifestato molta furbizia esatto perché potevano uscire in maniera un po' più tranquilla ecco cioè passare un periodo un pochettino di tranquillità visto che non stanno facendo non hanno voluto fare niente non vede non collaborano neanche con voi dopo quella trega che gli avete chiesto eh allora toccherà rompergli il culo tutti i giorni finché secondo lei l'informazione della DEA è stata ufficialmente chiusa io non ci credo un cazzo signore vuoi? no ma guardi non le stiamo facendo solo le queste domande ma l'abbiamo fatta anche con i clienti che abbiamo incontrato tutta la sera e vedo che tutti quanti rispondiamo alla stessa cosa voi ci credete? no un'associazione è un ufficio chiamiamolo come staccamento chiamiamolo come vogliamo è impossibile che chiuda dal mattino alla sera perché era una settimana che rapivamo poliziotti per prendere informazioni e prendevamo sempre come riferimento quelli della DEA che secondo me si sono rotti le balle hanno voluto mettere queste informazioni in giro così almeno possono stare ancora più nascosti di quelli che sono ma mi manca poco anche per sapere dove stanno quindi ho proprio intenzione di rompere tutto signore molto bene molto bene bene signori diciamo che ci siamo chiariti su un po' di aspetti poi vediamo come vanno le cose certo tanto bene o male ci sono io cioè mio fratello Hector tutti i ragazzi quindi se succedesse qualcosa teniamoci in contatto assolutamente lei sa bene che l'abbiamo sempre ragionato l'abbiamo sempre detto una mano alla valata grazie per il like quello quindi nessun tipo di problema dal momento che le servono delle armi lei sa chi chiamare chi contattare di conseguenza poi si ragionerà sul resto infatti vi ringrazio anche per la tempestività mi ha dato l'ordine oggi ed è già qua ci mancherebbe ci mancherebbe come sempre super efficienti bene signori la macchina ovviamente ve la lasciamo quindi potete portarvi al carico su quella se preferite oppure caricarlo sul vostro come siete più comodi no prendiamo quella che è antiproiettili ottimo perfetto grazie mille signori signore signor principe arrivederci saluti la nobiltà dalle sue parti arrivederci guardi che nobiltà quello con le mutande arrivederci signori arrivederci buonasera allora raga qualcuno che guida la macchina la guidi tu si si li scortiamo noi ok maiz ha avuto il caro di zuccheri si di nuovo domani ti accompagno non potevo proprio tardi torno ok ok tranquillo tranquillo infatti non ti trovavo mi stavo già preoccupando bella principe ciao venea ciao venea come stai buonasera buonasera Rita che si dice ragazzi adesso andiamo via da qua ragazzi spingiamo un pochino capino no ma io il magazzino non ce l'ho vabbè le metto nella casa mia arrivederci non c'è il magazzino Enea grazie per il follo bello un applauso per Enea che è entrato a far parte della famiglia dei maledetti siamo a 2729 ragazzi ne manca uno per fare cifra tonda forza belli non fate i timidi lasciate un bel follower ma l'ho mangiato pesante mi faccio una corsettina ho problemi molto grossi l'occhio oggi tipo ma dove sono i nostri dove sono non lo so ok per qualsiasi cosa anche civico ma non mi va la radio perché ok per qualsiasi cosa mi dice solo non so uno squillo so che sta in pericolo arriviamo ma chi va bene da svitare lei fino a che ora sta qui allora devo trovare prendi la mia macchina bianca allora facciamo così andiamo un forte abbraccio da svitare andiamo agli appartamenti sei un pazzo cos'ha andiamo al 582 che c'è un appartamento li mettiamo tutto lì dentro per il momento 582 tira solo le macchie dove è bianca lì davanti eh ma c'è Ciro con la sua facciamo uno per macchina sì sì andai è chiuda prendiamo questa dai è chiuda prendiamo questa prendiamo questa dai uguale non mi falta vieni qua sali in questa dai lasciala qua tanto la prendi a dissequestro dai la prendi a dissequestro è uguale Giove sì 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 sono giusto no no cazzo appena siamo andati all'incontro chi mi ha chiamato Darko cosa c'è no niente voleva che gareggiavo volevi che? una gara una gara gara di che? le macchine adesso sì ma paura mia che me sa che là succede qualcosa di brutto mi ha detto comunque per qualsiasi cosa mi batti basso uno squillo al telefono e noi veniamo al civico che mi ha comunicato peccato che è uscito AIDS se no ci mandavamo lui chi? AIDS quello che guida sempre è questa macchina qua è fortissimo come pilota posso andare pure io a guidarlo però ti dico la verità non non me la passo ma che cazzo è? cosa? il rumore quale? ti dico così basta cosa? il renaldo ma tutti i nostri ragazzi che erano in 55 fino all'altro giorno dove sono finiti? non lo so ogni volta questo c'è la cazzina ma i miei dici quelli che ho portato io? jay sì anche ma credo ma ieri c'erano ieri sera sì ma a metà che stasera c'erano qua ma che c'erano qua? volare ma perché? ma vuoi c'erano di là? tutto bene? tutto bene tutto bene mi sei svolto scusami tranquillo tranquillo vado piano vado sempre piano porca tra che botta da che parte siete andati? siete saliti su voi? sì ma io mi domando una cosa eh? eh ancora faccio un'uomo ancora? ancora faccio un'uomo 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 ma ora pure colpa mia ma sempre veramente è imbarazzante ma fratello ma mi è entrato dentro mentre stavo girando a me prescinde sei proprio scoordinato quando mori la macchina vuoi guidare tu? eh? dopo dopo ti faccio un'uomo questa cosa? vai vai ricorda questo eh? vuoi guidarmi dai? intanto deve con fabboli con chi è esatto scusa davvero eh tranquillo la mettiamo a casa per la destra per la con top driver eh? è una volta che ti vedo guidare lasciamo perdere ma guarda che guido benissimo poi ne ha maledetto 2k e tutti quanti guarda che guido benissimo devo guidare le macchine che so guidare con la getta guido da dio con questa non è che guido benissimo a parte che quell'incidente che abbiamo fatto ragazzi adesso parliamo è colpa mia io sto girando quello mi è entrato dritto vediamo ragazzi si è bella però ti salutano i ragazzi ciao bellissimi buonasera a tutti ragazzi quanto stiamo da like? non lo so vado a vedere vi lasciate un po' di like maledetti che non siete altri andiamo a vedere adesso vi controllo 61 61 sono pochissimi 61 sono pochissimi 61 dai ma che sto schifo vabbè dai ma tu c'è no no non c'è dai che? che? non male rispondete però oh chi? ah no non è arrivato ma chi sei? sono stessi che abbiamo fatto tutti in che senso? negli altri e stiamo andando alla 582 a scaricare delle armi uno stava mettendo uno per l'uomo per l'uomo e l'altro per l'uomo per l'uomo per l'uomo non so 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 che sbaglio è una vaccavola bro pilot hai visto? che pilot è una vaccavola è una vaccavola Allora, stai qua dentro, eh, stai qua dentro, eh Ma chi è che sa qua, che abita qua? No, vi dissocio da questa cosa No? Allora scaricate, dai Dai, fatelo voi Dovete suonare 2, 3, 6, ok? Sì, posso prendere un MK2? Sì Ma fa le suonare a 2, 3, 6, eh Sì, adesso lo dico K, lì Gli do 2, fiste K, sicuro di 100 È bravissimo a guidare, K, lo sai Vola con queste macchine Fa 3, 3, 3, 3, 3 Con quelle di tina, zio cane, va veramente forte Sì, già ho sfatuto 3 volte Eh, hai visto, ma si dicono tanto a me Ma poi alla fine, i piloti qua Ah, là c'è un tempo che trovano, eh Dove posso seguire K? Dove posso seguire K? Allora, non ho capito Mi pare che ha detto ieri Che erano occhietti su Twitch Però non sono sicuro, raga Dovamo chiedere, adesso gli chiediamo Ma i verdi a cui Hai dato la coca? Dobbiamo sentire anche loro Ma lui c'hai ragione anche tu Adesso che arrivano i ragazzi Li chiamiamo Beh, capitano Non è che mi spazzo la macchia VB su NFS Sempre sto facendo Mi sa un po' Sto paginando Raga ma dove cazzo siete? Mi serve una mano qua, ragazzi Ma ce la fate, eh? Ma ce la fate, eh? Io mi dirò Perché non puoi prendere con noi Raga Mi dici il... Allora Prendete le armi da dentro Ti citofonate 236 Ok Ok Ma non sei più pulotto? Ma non sei più pulotto, Armanito? Ma io pulotto Ma perché c'ho di nuovo sta maschera di merda? Non ho capito Raga Dovete stare qua, però, eh? Ah, principe Passatemi tutto Passatemi tutto Ho portato con alfa via mail E oggi deve arrivare No, 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 non potete le armi così qua Ok Passatemi l'armi Passatemi l'armi Numero? 236 Principe, dammi il numero 236 Vai, anche, dovete mangiare un attimo Io ho finito Mi dà per forza da bere da mangiare per favore Che sto a morire Posso, mandio, mandio Passatemi Fai un numero, il numero 406 sta qua Sono io, sono io Ah, ok, a posto Ho dato tutto, tranquillo A posto, a posto Hai da bere, ho anche da mangiare per favore No, no, no Avete regato a bere da mangiare Che sto a morire per favore Numero 406, grazie Eh, il numeretto tuo qual è? Quello che sta al deposito A posto, a posto Raga, manca un sacco di roba L'MK2 dove sono? Dove cazzo è i silenziatori? Dove sono la roba delle pacifiche? No, ma c'è ancora roba in macchina Solo che non mi hanno fatto capire Ma quel cazzo che aveva tu qua Me la parlavano e si tiravano Scaricate sta... Oh, ma chi c'è sotto in macchina, ragazzi? Ce la fate e scarica sta roba? Ragazzi, stiamo fottendo tutto Vedete di venire giù Subito Oh, ma ti calmi, oh, porco due Ah, sì, faccio da... Ma io non mi dissi... Sempre tutto panicato, sempre Dai Ho preso tutto, ragazzi Fatta, fatta, fatta Ma l'ho po' assicurato Possiamo andare Prendi il portacale Sì, sì Oh, salite, regalo, andiamo Aspetta Ma uno per me è Escher Infatti che non mi piace questa macchina Volevo prendere quest'altro L'Utta, l'Utta, l'Utta Posso prendere questa macchina qui, ragazzi? Questa macchina è mia Ah, mi scusi, mi scusi Mi scusi, piglia la piglia la mi scusi Mi rubino la macchina tu Eh, che la volevo prendere in... In pressito, la pesce Come in pressito? Eh, sì, volevo farci un giro Posso farlo un giro? Eh, sì, se me lo chiedi, certo Grazie mille, però mi so che non ritorno più, eh Ora è il nostro No, dai, tieni, tieni, tranquillo Ciao, ciao, caro Ti ricordo di me? Eh, screen, screen Fa sto bene, sì Ti ricordo i miei tempi in polizia Oh, mi dissocio Sono uscito a cazzo dalla macchina, fermi Eh, se, ecco, la felice di fare... Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ho paura prendete uno con l'inventario aperto lo prendete in braccio e lo portate sopra raga ma quanta roba dovete scaricare ancora io 236 io 236 c'è l'inventario aperto Gio 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 mettiti aperto con il menu della macchina come? cazzata che non vedi fuori però da qua oh ma com'è il filopono? 236 oh principe dopo ti porto pure quegli altri 50k che tengo in armeria in che senso? ho i 50k sporchi ho fatto la rapina dopo te ti porto ma chi devo usare sta roba? andalo mettere lì Stefano Domenico scopri le nero oh dove sei? JJ dove cazzo sei finito? JJ c'è sta uno qua fuori che ci vuole le gran armali dimmi un minuto eh non ci sono ancora cecchini ne ho purtroppo la pistola è dentro la macchina leggi in privato quando vuoi sì ok bella caro ciao Domenico come stai bello? inizia a passarti p ma ragazzi sono quelli di Jay sono amici che cazzo mi incazzo vado a fare parole litigare avete detto tutto da qua? caro guarda là caro guarda là guarda un attimo caro guarda un attimo ah 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 ma non c'è che faccio non c'è oh è vero manu ci ha slicciato quello lì eh oh ma mi senti oh ma mi senti oh ah oh eh sì eh né tu né tu né tu guarda avanti né tu guarda avanti sparopalm vado a controllare perché io so che l'ho preso oh fermo 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 che mi strai fine puttana ma tagli a passare la corda pezzo perché mi dice che mi dice che l'inventario non uso chi è dentro eh no stavo posando io la roba sto scendo ok ma dove sei allora 10-12 pdv ok poi 5-10-12 carabine ok 1-2-3-4-5 AK ok 1-2-3-4 MK2 non si è già presagio ma non c'è la carabina dietro che non ce l'ho nelle tasche 4 micro smg 20 senzatori 15 launch 30 termiti 30 trapani walk post abbiamo riempito ok poi qua c'è una pistola è un caricatore esteso e via i trapani dove sono? ah i trapani sono qua c'è tutto 30 è giusto no? borsoni 4 avevamo preso 33 miti 30 trapani e 15 launch giusto che erano quelli che si buggavano ogni 3 boh post c'è tutto perfetto dai munizioni se ne manca vabbè per adesso è tutto qua tutto al sicuro poi vediamo ok ma mo che è sta cosa che esco da qua c'è sta maschera non capisco io ragazzi abbiamo preso anche il matinale per le qualsi sì sì l'ho passato io ma perché c'è il faccione con sta maschera ne posso più ragazzi mi togli la maschera boh ma se esco è giusta se esco con la maschera guarda dietro chi c'è guarda spadabam eh no non ci sono no le abbiamo comprate Tony l'unica cosa che che non abbiamo comprato da loro sono tutte le munizioni AR e MG a posto e munizioni di pistola allora appena puoi se riesci ai tempi a casa all'844 porta oppure che ne so 150 200 pacchi di munizioni normali pistola sì e anche una decina di pistola se riesci a casa all'844 le mette nell'inventario sotto così ragazzi prendono e portano da lì sennò viene fuori un casino qua e le armi 20 pistole 20 pistole ma no abbassano decine abbassano decine ce ne sono già 10 in casa ok 10 pistole e 3-400 munizioni ragazzi e poi se riesci quando siamo insieme ricordami che dobbiamo prendere anzi se no portale a casa la poi le spostiamo qua 200 pacchi di munizioni AR guardate che mancina ok io le mettiamo via e poi le porto qua c'è il problema della maschera adesso togli la maschera sotto la metto di questa maschera di merda da manità maianco le tu le tu le tu le tu ti faccio volare sali si è mio non me lo rompere già me lo stai scalzare almeno se fai bacchetta magica devastati grazie perché è già su motore non me lo rompere per cortesia no neanche un bacchetta magica ah boh allora mose che faccio mi prendo peter una politana che lui ha l'accesso al blip e mi faccio il suo servizio è al nuovo me l'hanno regalata però se guarda se vado dentro citofano vieni dentro come è il più avuto 2 3 6 peter peter sono tonico che sai sto qua sto qua sto qua guarda ma è fuori il problema e quindi cambia puf fuori bro è pronto cambia ma che bella che porca puttana ma provo a uscire così che bella è troppo bella cosa prendi la una no per esempio se ha perdo non c'era il macello ha perdi tu vabbè è un asperatore per cazzo per il fatto che mi scappa sempre le munizioni per trattare facciamo così un attimo facciamo così perché questo mi ha giocciato metà non l'ho mai provata le mk2 lascia vero buona la miglior pistola è stata che io la perdo sicuro non faccio non capisco perché diventa da legale ok non me la rimessi oggi ora provo a uscire senza maschera vediamo se ma qual è il coso qua dai ma com'è beh forse sto sotto ragazzi devo buffare un attimo c'ho la faccia da colirla per n appena esco allora aspettate un attimo guardo solo un attimo la radio com'era 473.68 mk che casino 473.68 ricordate la raga 473.68 due coglioni proviamo sarà quello il problema eh ho provato così le sceme non fa niente eh no raga ma era proprio un problema di bug secondo me sarà buggata così hammer vedi se c'è Nettuno i mattoni amici adesso adesso prendiamo anche Nettuno dai adesso prendiamo anche le munizioni raga overworld ci stiamo riorganizzando non è facile comunque perdere una casa fazione da oggi a domani con tutta la roba dentro ragazzi è bella lavorata la cosa c'è il cagamento di cazzo che stai una sera e mezza due a dover rimettere tutto a posto con un rp del cazzo non so cosa proprio mi è rimasta qua ragazzi è bella 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 Allora F2 Radio 473.68 Siete la mia rubrica Ponto 6.8 Mannaggia il cazzo Ma no 6.2 6.8 Svegliare Check Check Vabbè Buonasera Buonasera Tutto bene signore? Bene bene Mi hanno detto che c'era una festa C'era qualche ragazzo Che conoscevo Mi sono fermato Ma ha fatto bene Ma ha detto c'era Cose di birra e cose Non lo so Là sopra Lei che numeretto è signore? 138 Ecco qua la birra Ah grazie Allora è vero Hai visto? Guardi che Non dicono bugie qua i ragazzi No ma io ci credo certo Ma tutto bene Tutto bene caro Solo che veramente È una serata un po' così Ma che è successo? Eh no Ascolta vieni con me in ufficio Se devo lasciarmi una roba Eh che è successo? Qualcosa di spiegevole Signore Mi dispiace non conoscerla veramente Se no vi potrei spiegare un po' di cose Eh io un uomo anziano sono Magari ti posso aiutare Scusatemi signori Dove è andato? Ma perché hai fatto subito? Eh guarda un attimo in ufficio Ufficio? Sì è quello mio Vedete che tolgo sta macchina di coglioni Non capisco perché ste macchine non le parcheggiano bene Lasciano tutti i mezzi di coglioni Eh ragazzi Qualche birra di troppo Capisci? A fare manovra poi Non sono più buone Eh sì Vabbè sono giovani però Non visto erano molto atletici Facevano capiole Sì sono dei pazzi scatenati signori questi qua Lei vive qui È casa sua quella Ma diciamo signore che io Qua ho preso un appartamentino Mi diverto A venire con le ragazze Sì c'hai qualche fidanzata Ogni tanto capita quando vado in locali Mi chiappo qualcuna me la porto qua E io niente più ormai alla mia età C'è chi appende i guantoni al chiodo Io ci appesso le palle Ma non mi sembra così vecchio signora addirittura È 61 anni figlio mio che devo fare? Come 61 anni? 61 anni? Mi vedi biondo perché mi faccio la tindura? Ma vero? Oh giuro 61 anni ma si riporta benissimo Sì 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 La mia terra siciliana un suono eh Mangiamo tutte cose buone quindi non si invecchia di meno Potrebbe essere un'idea Eric Potrebbe essere un'idea Certo? Invece? Come si chiama? Ah signora io mi chiamo il principe Principe? Mh mh Bello Bello Bell'uomo Sommaggia che era una regina No diciamo che avevo una famiglia importante una volta E allora E che è successo? Cose brutte spiacevoli Purtroppo sì Ma questo me ne dispiacevoli Nooo Sono scelte di vita signora No a volte quando uno sceglie di mettersi una maschera addosso e fare determinate cose nella vita E anche sapere cosa va in conto Lei mi ha messo una maschera indosso e ha fatto qualcosa di strano alla sua età signora Io sono siciliano e dalle mie parti le cose si cambiano senza maschera Ora non lo so qui in America come funzionano Le cose? Ma diciamo Ti dirò signor principe che mi apro un po' con lei E io sono dovuto scartare dalla mia testa O se di appalti facevo capisci? No 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 Non ho capito che tipo di business Però quei business signori Si possono fare anche senza maschera Scusa quando che mi levo questa maschera Aspetta aspetta C'è qualche sberro c'è Oggi un infame di questo Io ho pisciato sull'anno Eh subito voi che sparate qualsiasi Signore C'è gente di merda qua attorno Venga venga No non neanche ci spostiamo L'altro i ragazzi giocavano a giocattoloni belli pesanti Però dove fa? E posso offrire qualcosa da bere? No la birra basta e poi mi viene acidita a quest'ora Se vuoi venire su in casa le posso offrire qualcosa da bere? Se no ci facciamo un giro Ah ci facciamo un giro e me mi servono amici Non ho scopo che persone qua Comunque lavoro all'usato io L'interesse È mio signore Come? È mio Io lavoro per vostia Sì signore Ah piacere Tony il direttore L'usato quello di dove Tony è il direttore giusto? Sì Ah signor principe non lo sapevo Lo so signore lo so Lo sta tenendo d'occhio da qualche giorno Sono al 391 E che pensare? Le posso dire una cosa in confidenza però Certo Ci vuole che un poco di investimento Io in tre giorni ho fatto fare Non so se Tony gliel'ha detto Qualche cosa come 6-7 milioni Sì diciamo che mi aggiorno abbastanza Non giornalmente Perché io ho tanti impegni Anche In quest'altro ramo signore Capisco Quando uno Decide di prendere una strada Poi Deve un po' dividere le cose No? È giusto È giusto E diciamo che attività ne ho parecchie in città Ma nessuno sa che sono mia Ho capito di che cosa mi parla Lei Diciamo fa un servizio Andrei grazie per i lacchi Grazie Pier Però io facevo più cose di politica Di carte E tu Fai cose che È meglio non sapere È giusto? Giusto signor E per un povero Sciangato vecchio come me Qualcosa ce l'hai? Capisci? Non è che voglio stare tutto il tempo A marciare dentro un congestionario Per me signore I vecchi sciancati come li chiamo a lei Li chiamo uomini di esperienza Non capisco E posto No ma no Il chilo ha pevoli a casa Posto per persone come a lei Ce n'è sempre signore Però Lei deve sapere signore Poi quando entra in un determinata situazione Quando Il sangue quando si meschia Diventa una cosa sola E da sangue si esce con altro sangue Voleva dire questo Bravo signore E lei dalla Sicilia è scappato Perché era magari in qualche affare Adesso non so che tipo di affare Così Avevo Lo stato alle spalle Non volevano portare via tutte le cose Io non sono lo stato signore Sono un po' più pezzo di merda Se mai succedesse qualcosa che non va bene Io non la riuscirò mai uscire da qui Non lo capisco Quindi Finché Lei non entra Può fare quello che vuole Ma se lei mi dà la sua parola Io le faccio fare un giuramento Le faccio entrare Nella mia famiglia A tutti gli effetti Non solo nella parte legale Però poi dopo signore Non ne può più uscire Non so come funzionano Certe cose Non ti credere Buonasera Buonasera Mi fa piacere che lei lo sappia E che lo comprende Perché non vogliono stare a rinaccio Te la posso dire una cosa Te la posso dire una cosa Viene con me Tutto a posto? Sì Questo signore qua Lavora per noi Ma vedi questa città Ma vedi questa città Li vedi questi palazzi Il primo giorno che sono atterrato qui Ho avuto il desiderio Principe Di allungare le braccia E pigliarmi tutte cose E' un po' il desiderio di tutti E da solo non si va da nessuna parte Giusto? Esatto E mi servono La compagnia mi serve Quella giusta però Io sono E posso essere la sua compagnia giusta Però il signore mi deve dare la sua parola E una volta che mi ha dato la sua parola Come l'ho detto Da qua si entra e non si esce Io comodo onore sono Mi fa piacere Mi faccio tagliare la lingua piuttosto che Rinunciare le parole capisci? Non sono come qualcosa inutile di bocchetta Mi riso Ma troviamo qualcosa da fare o no? Allora facciamo Alzate le mani tutti Alzate le mani tutti Ma è saluto mano No Siamo alzate Non servono più A quando pare Non serve più Alzate le mani E vedi signore C'è I picciotti C'hanno il griletto facile Non possono vedere qualcuno Che mi punta Bella questa cosa Si ha visto Non ho neanche cercato di tirare fuori l'arma Non ho neanche dovuto dirgli niente Senza di protezione Sono belle adderrate Picciotti Mi vogliono molto bene Si Nella piscina Dobbiamo andare qua dentro Che se passa la polizia Mi vede con la maschera Mi tocca farli sparare a tutti Poi mi cagano il cazzo E poi Si arrabbiano Mi sa proprio che C'ho bisogno di persone come voi Signore Persone come noi Le ha trovate Adesso Se lei è pronto a fare qualche passo Io pronto sono Alla morte non c'è semmeno È giusto? Esatto Allora 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 io faccio in questa maniera qua Signore No Samir Benvenuto in famiglia Signor Nettuno Che l'avrebbe mai detto? A barosseria Anche quella è mia Grande cosina Capisci? Quando uno va male L'altro va bene Le cose si ricompensano Sì L'import 39 Anche mio L'officina il 39 Anche mio Almeria 200 Anche mio Avevo immaginato Perché ho visto che Tony In la vengono In la vengono Va pure A fare A me piace signore Occuparmi anche degli affari legali Non ho purtroppo il tempo Ma Vede ieri L'altro ieri sera A casa mia A casa mia ci sono piombati Gli sbirri per colpa Di degli infami Che sono morti Ieri sera stessa Qualche uccellino C'è stato Bravo Si sono preso Andati in casa Quando non c'era nessuno E hanno fatto come fanno I peggiori ladri Appartamenti Mi hanno rubato Tutta la roba Che avevo a casa Ah Questa infamità E' per quello Che stasera Siamo qua Però signore Le posso dire una cosa Ho fatto un giro Dalle mie attività legali Ho ripreso tutti i soldi Ho più roba di prima Molto Molto E' questo che servono Le attività legali E questo è il senso Del divide timbra Capisci Dividi E regna Sempre un attacco Prima o poi Lo subisce Ad averci un regno Esatto Puoi essere forte quanto vuoi Ma purtroppo Alcune volte Alcune cose Non le puoi prevedere Per quanto io sono una persona Molto calcolatore Ma Alcune volte Qualcuno fa i conti Senza l'host Eh l'host A casa non c'era Allora hanno fatto i loro conti E mi hanno rotto il cazzo Perché sinceramente Non è un danno Ok Fanno ridere il danno Che mi hanno fatto Saranno Bò Nassati 100 150 milioni di armi Ma signore Come l'ho detto Con quei soldi lì Ci gioco a carte la sera Ho ricomprato tutto Ho ricomprato tutto Quello che mi serviva Però mi hanno fatto Una rottura di coglia Adesso devo recuperare Delle cose Che purtroppo Non si possono comprare E io ti posso dare una mano Lei sa sparare bene signore Anziano sono Incomincio ad essere Capisci un po' mio Però se ci metto Una pistola in mano Qualche cosa La caccio fuori Capisci Ok Allora lei può essere utile Sia Quando c'è ora Di proteggermi Come è successo adesso Sia magari Visto che lei è un uomo Di mondo Ha visto tante cose Nella sua vita Come sa Come sa ho molte attività legali In questa famiglia Qualche aiuto La mia testa purtroppo Regna tanto ma Il problema è che quando hai tanto Può capitare che ti perdi qualche pezzo E quando ti perdi qualche pezzo Io mi distorcio Che sta succedendo? A quelli che ti hanno puntato Sono a qualche caso Eh Ah per favore A quelli che ti hanno puntato Mi hanno puntato Che m'ho puntato A che è lì Ah sì ma abbiamo sentito È una roba del tipo Siete puntati Ma ho visto solo due volte Corsi Io ne ho visto più niente Quindi Eh io ho sparato Ma ne ho manichate Solo fai cazzire Ogni po' Ma ne hai divertito Che te da la poschia Sa te bro Nooo Eh ma no! queste cose perchè? perchè al lupo al lupo poi il lupo muore ti so, c'è il gole se sei qua, scusa, tu non hai visto io ciao un po' cazzo no, niente proprio eh bene bene allora quanti c'è? ti presento per la roventa non so, dite voi già ci conosciamo è un pilota di merda, un bravo ragazzo che coglio, cazzo ah lui guida pure il signor Nettuno stava cercando un po' di amici per fare qualcosa di illegale dove state? che ne dite? perché no? mi ha dato la sua parola che si potrebbe ammazzare per una famiglia, giusto signor Nettuno se lo sono andati dentro sotto la pimento o sotto interrogatorio certo piuttosto mi inghiotto la lingua è una persona anziana lui potrebbe esserci utile visto che noi siamo tutti giovani dicono che i vecchi sono saggi esatto del vecchio potesse il giovane sapesse si dice no? esatto e si uniscono le due cose magari ma chi è questo? questa barba di merda oh ciao bello al signor Nettuno le presento uno dei miei più forti soldati buonasera piacere Ema però posso dare un soprannome? si mi dica poche coffee mi piace mi sembra uno da poche coffee si appena lo mangio è finito è un bravo picciolo e mi sembra bello energico capito? come il poche coffee si è buono come il cioccolato ma è anche stronzo come il caffè che non ti fa dormire se si mette ma che non è saputo dall'arte milanità signor sono uno speciale ma stanno continuando a gridare in radio polizia che andate a scassarli sti poliziotti hanno rotti i coglioni io non posso fare niente fino all'udienza andate a scassar sti poliziotti per favore ma dove stanno sti poliziotti che hanno rotti i coglioni ma li riuscite a buttar giù tutti ma magari dai dai rompetegli il cazzo scappano e voi sparategli in seguitele sparategli rientro se riesco fai che sei meglio dammi il numero diciamo numero di scarpe che vengo da una piccola città è chittato però c'ho senza uomo di campagna ero mio padre lo metto apposta dove ti serve? no no mettilo apposta ok ecco la famiglia molto mio padre ha fatto si che io mi mangio tutte le cose ma il bere stasera quanto va veloce raga mi sono già bevuto dodici coca cola ma che cazzo capita? chiedi a k chiedi a k come sta il bimbo perchè? stava male stava male il bimbo di k cazzo l'inventario è pieno come lo garantisco? la butto per terra una pillola che devo fa' la butto qua nel cestino mi sentite? c'è che scusione dove state? 5 7 2 5 7 2 5 8 2 5 8 2 5 8 2 Di voi gente particolare Sono dentro casa Ma più che altro sei obeso Ma cosa obeso? Ma come obeso? Sei una persona in forma Sei tu che hai la testa piccola Non mi senti tanto in forma Mi dai il numero per entrare 441 Ma Ci sono i compensatori caricatori Sì si è un figo Allora abbiamo preso un po' di roba Ma non tanto Entra nell'inventario Vai nell'inventario lì Provavo a mettermi in mezzo No 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 Allora Samira All'844 abbiamo messo Otto dieci pistole E più quelle che c'erano Ottimo Allora Tony Guarda che ho parlato con Nettuno Avete 20 pistole 9 milioni 150 munizioni MG 180 munizioni per la pistola Andre, Peter, Renea Grazie per il like ragazzi Più ci sono 59 pezzi di bruscali Sono uscito di caso Ok Ottimo Nettuno che fa? È entrato in famiglia Cercava Hammer Però Non lo sai bene Cosa? Non lo sai bene Ok Cosa? Quella persona lì Non è tanto affidabile Perché? Perché? Io lo so che lui Ha una vita come la tua Fuori Quindi Cerca sempre Di divertirsi Ecco Ma perché c'è una pillola Ma anche se L'ho buttata io Perché non ci stava più nell'inventare Tu Portalo con te Gli fai prendere una pillola Gli fai prendere una pillola E Te lo prendi a casa con te Lo prendiamo con noi Sto pensando E' una cosa molto intensamente Eh Io lo so Ti leggo nel pensiero Eh Che cazzo Dove 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 Le radici So quelle sempre Però Ma che cazzo Fanno Aspetta Che c'è Che c'è Che c'è K Il civico Il civico Dove state sparando Il civico Ma di cazzo Non ci stanno nessuno Ma loro Che c'è Caccato Ma vaffanculo Io non ti ho manco visto Fra Non ti ho neanche visto Io ho sentito Siete Pum Pum Stavo chiacchierando Con noi Non ti ho detto Non sto sbagliato Che senso Eh non fia Io vi sto puntando Ho due stagi In quel momento Capisci Eh ma tu stai puntando a me Io adesso Non so quanti erano loro Intorno a me Io ho due stagi In quel momento Capisci Eh ma se ci sono tutta quella gente lì Che tu ne punti uno Io so Cioè capisci cosa sto facendo Ti sto puntando a te Ho capito Ma Esatto Ma è vostro Massimo Ma sì Cioè in realtà Quel coglione di tre Sta trollando Con un suo cosa Ma è giusto Via fiacco Senta la tua voce No Ma nemmeno volevamo capire Neppure teole altri Infatti Manco potremmo No no Ma io non vi ho neanche sentito Stavo chiacchierando Con quel signore là Salve caro Mi potrebbe dare i documenti Se non pensate in borghese Cioè Mi sa che te lì È solo che l'ho persi Ok Ho vinto il ditino qua Non potete stare insieme Io il ditino S'ho abitato a metterlo qua Guarda 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 Occhio a quello che fai Cioè Occhio a quello che fai Prova a vedere se funziona il ditino Occhio a quello che fai Funziona il ditino Benvenuto La tua calma La sentite La sentite conoscente Ergo Per terra Eh ma è giusto no Carlos Eh va bene Va bene Benvengo Sentiti a casa Sentiti a casa Grazie Fuggì Questo signore qua L'ho portato io da Tony A lavorare L'ho conosciuto in città Era una brava persona Eh diciamo che stava cercando Un gruppo di amici Con cui fare qualche affare Ah E l'ho preso Hai detto che già hai parlato con te Mi fa piacere Per prenderlo Significa hai capito Che magari è un uomo tosto È un uomo di esperienza In Italia È una persona che ha 60 anni Eh ragazzi Quindi Ha le sue esperienze in Italia Si può insegnarci tanto E sono fatti a due dei Siete voi vestiti così Con la felpa nera Eh si sono fatti a due dei nostri Al centrale Ah siete voi Ah Ok aspetta Aspetta Eh vabbè Tanto siamo solo noi voi Siamo sempre le solite Siamo sempre Ho molto esempio Mi sentito Ma annaccia Avuto a me sti gli animoni come Ah Anzi ma non lo so Ma no ma realtà c'era gente Gente vestita come Cioè con la sua pezza Che pistola di super La combat Eh la che è La combat quella Sì la combat Eh ma questa C'è le mk2 No questa è una bella combat Sì Ragazzi dentro c'è delle mk2 Comunque Sì le ho chiamano Oh sì 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 già sapattavo Sto l'hai Mi sentite Posso avere una io Sì No tu no Le mk2 è chi spara Non l'ho presa Non l'ho presa neanche io zio Che cazzo Facciamo Te la pago 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 Ma i miei primi che vanno a terra Ce la prendono Stai parlando in radio Stai parlando in radio zio Poi mi sto parlando in radio Sì Sì Ormai ce l'hanno C'è quasi tutti qua Ci si è ancora in radio No È giusto che c'è la via Chi spara bene ragazzi Le mk2 Eh ma io la pago La pago La pago La pago La pago Ma me ne andate 5 contati zi A me mi puoi dare A me puoi dare un pacchetto Di Vigorso Lair Per cortesia Vigorso? E che faccio Da baccai Eh no Io almeno spupo Quando guarda Ti colpisco La pago Scusa Scusami Scusami Mi perdoni Mi perdoni La tecnica La tecnica La tecnica La tecnica Cucce Ma non so Cicchilito Caffa Sono di nuovo Trasso Cicc macchina la sera fabrizio c'era una maschera va bene ancora la stessa faccia avrò chissumava tritavo non è un po' di rischio 10 fattori c'è la città non ho fatto io ho una proposta per i ragazzi ho una proposta per i ragazzi visto che voglio divertirsi andate a prendere i neri aspetta li specifica bene la chissò erano a piedi neri eh no no i neri quei neri nooo nooo ma che ne so come fa a conoscere la domiziana quello lì eh chi l'ha detto eh chissà il cliento io come la conosci la domiziana che c'è contro la domiziana ma dove siete ragazzi ma state sparando eh sì dai veniamo tutti dai quanti quanti siete sparando solo io una cosa voglio fatti tutti dai arrivo perché erano scarsi forti allora no è perché usare energia si so vive 200 100 o 200 no sto a casa al giro arrivo anch'io dai riserva aiuto ma si dai eh si eh si andiamo tutti a 200 a sparare un po' andiamo a fare po' di malamma tu qua lo sai che era da ti eh chi? dove sei eh ma quale di questo? eh stai arrivando cioè stanno andando dove ma si è ma anch'io voglio andare come sei andata a Torino a chi dobbiamo andare non lo so stanno facendo macelli a 200 mi ha detto che c'è tanto a chi dobbiamo andare a 200 mettetemi il radio a chi dobbiamo andare a chi dobbiamo andare a chi dobbiamo andare in mezzo riguardiamo un attimo chi sono che cazzo fanno un drago c'è vedete che mi metto un attimo il casco ci mettiamo un attimo qua che dici? ma guardiamo dai qui ah c'è uno lì in fondo cioè vicino all'armeria ma dove? mi darei provo a far più giro ma bravo ma qua ci sparano i testi bravo bravo come sta andando? vediamo stanno salendo più testi la moto noi siamo una moto siamo noi ma siamo sotto il garage ma state sparando in questa piazzetta qua? si il 2205 ma quanto lo fai? non si capisce un cazzo c'è un po' di nero ma dove? chi è quello vestito di nero in mezzo alla piazzetta? si è arrestato con l'ambulanza il camace chi è? si è arrestato con l'ambulanza 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 ma tutti i miei sono questi mannaggia il cazzo ma perchè santo di pesti? come devo fare io e tu? buono eh? ma qual è buono? poi mi regnano i caffè e quello è pure hai ragione mal di pancia troppi caffè mi ha mal di testa però il fatto che sono finita per... come si dice killer? non è che male comunque mi piace quest'academy si diciamo che sono anche pochi stasera e ti è arrestato con l'ambulanza ma che cazzo è che mi spara? ma che è? oh e sta succedendo ma che ne so allora chiede che ti do la radio però ti fa venire mal di testa te lo dico è abituato ci sono 473.68 è un macchino pazzi avete finito? squilibrati avete finito? eh sono tutti a terra però ti rianimano e c'è ma scusa ma... sono tutti a terra ma... devi riuscire a riuscire a riuscire no non penso togli il telefono così non si li alzano più togliete gli telefoni così non si li alzano più ma ti rialzano tutti guardali ma questi non sono riuscire togliete gli telefoni vedi quello che sta fatto da accanto? è uno che si è appena alzato oh a noi sparano sono due ora sono due guardali ma si sono rialzati? si tutti tutti no 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 non è nostro ma questo nostro è? no ma questo... oh ci sparano a noi al parcheggetto dove eravate prima raga venite qua dopo la piazza centrale eh nella piazza centrale? ora ti vieniamo l'altro lo sparatevi c'è uno nascosto dietro ai pilastri qua tutto... uno l'ho preso tantissimo io ragazzi siamo da soli eh Procione dove eri prima? ho fatto uno ho fatto un altro ho fatto un altro e te ti vedo Samir vai 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 via 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 ma tu stai? dove stai? dove stai? ragazzi sono da solo ho fatto un altro vai 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 vende la moto vende la moto vede ancora vede ancora vede ancora vabbè vabbè questo è quello lì dei viobbo? no non so chi cazzo posso? sta gru sì 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 siamo noi siamo noi quelli in mezzo alla piazzetta qua ci sta pure... ah questo è Samir questo è Samir che marasma ragazzi andate su a caso a casa ora che siete tanti guardate via le cose importanti ma no adesso ci ria andiamo ad abitare a casa eric tanto le cose importanti le abbiamo già portate via ci sono un po' di pistolette poca roba adesso viveremo lì con solo le pistole mangiare e bere basta ok però almeno lo diamo con un punto di ritrovo se no viene fuori un casino alzato le mani alzato le mani paratemi in testa srp però sta veramente bene come facciamo? no ma che cazzo ne sa Marco non fattano le mani non fattano le mani ma su palazzo fras, su palazzo frat eh ah okay ah intanto sparami in cazzo madu la droga devi portare via dalla droga Ma la droga ragazzi è dentro il camion Eric Dentro il parcheggio, dentro il camion La droga non la possono toccare Lo capisci Fra? Non la possono toccare Quando ci chiamano che dobbiamo portarla via Saliamo dentro il camion e la portiamo via Inutile che rischio 5 kg di droga Spostarli da un posto all'altro Per portarli dove? Dentro l'inventario lì Non mi sta più niente, dovevo comprare un altro magazzino Scaricarli dal camion Metterli dentro il magazzino Quando mi serviranno? Andare a prenderli dal magazzino Metterli dentro un altro camion E ci passi 2 ore solo a caricare e scaricare Sono 5 kg, sono tanti, ci metti un po' Io la roba la lascio lì Dentro il camion e già dentro il camion Buono A domani Enea, bella caro Ma se noi sponiamo perdiamo tutto? Sì 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 Sì, ma io ma c'è uno sul palazzo di fronte Ma cazzo c'è salito là Ma quale palazzo? Sicuro che ci sono le scale Ma il palazzo affia che la banca Poi faccio vedere il soffle pan Come me, reazione A scazzo Esattamente Andare Ah, non lo so io Sì, ma i miei non possono sapere che sono quelli di Argo Capisci, Fra? Io non lo so che sono quelli di Argo Ma sto sparando lì Una sigaretta a due minuti, amore mia Adesso vorrei capire la polizia cosa fa Per prendere l'arresto all'ultimo Ma Ma Riani, ma non ce l'abbiamo più Loro qua Ma io faccio ambulanza Mi sono rotto il cazzo No, io non ho il telefono Me lo passi un attimo Amore 183 Vai, vai, vai Metti via Ma sei senza maschera, tranquillo Sì, le fate, fai la bacchetta Mi portiamo via sto disgraziato Vai, vai, lascio Che numero sai, ti diventerai? 138 Grazie Chi sa che cazzo di assione era? Non lo so io Non so neanche chi era Dimmi Eh, era un attimo a terra si venuto Stavo malissimo Che porcata stavano facendo i tuoi I miei? Eh, sì Sono venuti in venti Ma che un altro di là di noi? Eh, non lo so io Che cazzo ne so cosa sta succedendo Sono arrivato qua e mi hanno buttato giù Tanto mi hai diventato un free room Non penso neanche Non penso neanche che sappiavano fossero i tuoi Eh, boh vabbè Quello che è stato è stato A me Cioè, se ne prego Sì Stavo anche a volte per dire Fermatevi perché stava diventando un free room Per quello A me non hanno fatto qualcosa, no? Vabbè, vai, vado a sparare Ci sentiamo dopo Ciao, bello Come cazzo era la radio Quattro Ah, c'è ancora Raga Sì Basta Ma dove state? Eh, è diventato un free room Qua in mezzo Basta, raga Eh, ma voi dove state? Ma è polizia contro altri Sto ancora sparando Ma andate via, basta Erano quelli di Argo Ma me ne vado via Tanto che ci sono arrestati tutti Ma che cazzo Tu Veramente Ordon Sembra Basta, basta Andate via Basta Ma Mi ero tirato su Mi hanno fatto Mi hanno investito Date via Date via Date via Date via a tutti Così gli spacchi la faccia Salire Fammi salire Salire Sali tu 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 Tutti gli altri Sono per terra Sali tu Sali tu Sali tu Eh Ce ne sono ancora un paio a terra Però quel camaggio bianco Chi sta Non so Era mascherato Si Ci sta Mascara bianca di da lì Oh Principe mi senti Sì Dove stai? All'ospedale Arrivo Eccolo Eccolo Sono ritornato Mi ha fatto qualcuno dei no Un subito bro Anche a me Mi risolto Ma state tutti bene? Io ci sto Mica Che cazzo è successo? Dai andiamocene un attimo a casa raga Casa a casa Vediamo un attimo come combinare la situazione che state facendo un casino qua Salete tutti in zilto? Sì Che non avete posto Sarebiamo una macchina dai Vabbè sti cazzo saliamo Vieni Vieni bene c'è spazio dai C'è un posto bro Era bello E' per quarto Vabbè Ecco lo zio C'è qualcuno in macchina tu Sali Sali bene tu che puoi dai Sali bene tu che puoi dai Ah te bella Ciao te Buon zonata 8-4-4 Giusto Sì Sì Secondo me sta ragazzo è giusto Sempre Sempre Non c'è che dici Ce l'ho sempre Ce l'ho sempre Proprio sempre Dai venite a casa Andiamo all'8-4-4 Basta dai Abbiamo sbagliato noi Sì Oh io ho detto la verità però Capito mi hai fatto ridere infatti coglione Venite a casa No 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 Io saprei che hai detto cosa ha finito con me Però Chiara era sta Chiara propita mi dice Saluta il mio amore No Chiara Chiara sta con me Chiara era ragà Eh Sono In realtà ora sa com'è Si chiama faccia una stopata all'istante Mi dissocio Eh E' una l'ottima Fai una battuta Sottile Mi ha tolto Mi ha tolto Esatto Ma com'è che fai frontali tu cosa c'hai in parabacca e davanti No All'impreviso Sottile Ma non si può che poi Chiudimi Non le vedo poi Ragazzi Tutti a casa Tutti a casa Comunque ragazzi Se ne era uno che ci ha fatto quasi tutti C'erano con un palazzo Ma che ci ha fatto A me mi ha fatto qualissima di voi 100% No No Mi sono stato fatto da dietro qui Mi sono stato fatto da terra Ho detto bene Qua è com'è Io con una prelibatezza proprio Al bacio La sto manicomio quando ce lo togliamo Che vuoi togliere qua E che? Guarda 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 questo Uno peggio dell'altro qua dentro Oltre che Sembrava Questa qua è una clinica Cotolengo Ma non è una clinica E' una punta E' il capo di sta roba Eh Eh Infatti me la dovrebbe darti una risposta Sembra che ci c'è di Marzullo io Eh Così mi chiamano Civico Mi è messo a arrestare i sette volte Vieni a casa Ma Cappone? Eh che è Civico Il signor Nettuno E la casa è Civico Il 844 Eccolo eccolo Nettuno Eccolo Chiamatelo Cappone Come fanno Di là Ma fammi capire una cosa Sembra un combutto con questi Per caso Ma i miei sette otto tanni Le ho qua Ma va Era una lite normale Ma va Era che non sapevano che cosa fare Quando purtroppo Non sapevano che cosa fare Sto farlo Ero volentici Sono mezzi malati questi ragazzi Questa era una clinica psichiatrica una volta Io l'ho preso in gestione Poi quelli che c'erano dentro Invece di farli stare qua Io sono il più fano Mi ho fatto le camminze di forza Mi è vero Ma subito Sembravano tranquilli Poi vedi adesso come sono diventati Da un po' li devo chiudere di nuovo Tutti dentro la cella La sotto Ci piace Patti No Sì Sì Volete vedere come fanno i tre utili Guarda Occhio Lul Ma lo so Non lo so Non sento qualcosa Dopo No Aspetta Aspetta Tit Tit Non lo so De chi ha 46 anni, c'è. Ma, frate, non ha senso tenere in caffettere, che vi faccio vedere il clip dove respawnano e... No, ma io non ci vado neanche, dai, i miei distorsi. Se mi chiamano i caffetti, mi chiamano per te. Non c'è, non c'è acqua in casa. LOL. Ma cosa serve? Lo metto dei miei chiami. Ok, sono A. Mi distorsi. Comunque il complesso, c'è meno male che l'ho tolto. Ho tolto il complesso ne ho fatti quattro. Ma scusate, ma se volete sparare, perché non vi andate poi i cambi? Ma magari... Signor Nettuno, benvenuto nella clinica di Pazzo. Grazie, grazie. Vuole fare il tour della clinica? A me riesce? Vuole fare come fanno i tragiardini. Lei? Come fanno i tragiardini? A pattinare? No, così, sì. A pattinare un po' come la cavo? A fare così e sparare? No, lei sta parlando a stare sempre trate a correre da destra e sinistra. Non stare mai fermi. A fare questo di qua, così. Come? Suvi. Qua si è pattina. Ah, ma siete arrivati voi due. Non so se guarda l'altro giorno del contesto. Siete arrivati voi due. Eh? Dove hai riferito? Può essere? Io? Eh, a terra. A terra, a terra. Ho fatto un 7-1. Ma non c'eri stasera? Ci è arrivato tardi. Mmm, ho dormito fino alle 11 e mezza. No. Ma perché? Perché è mattina palestra, pomeriggio match e poi sono crollato. No, scherzo. Però mi servirebbe il pomeriggio. Verso le 4. Ed è che sono da letto e sono tornato. Ah. Ho già fatto tardi. I giovani baldi. Grazie mille. Questo mochi cazzo è svenuto qua. Madonna mia. Ma perché c'è sempre gente svenuta in questa casa? È Santi. Ah ecco. È Santi cazzo. Ragazzi, ragazze. Ah, non ho ancora capito che non è cazzo tuo questo. Che progione è nabbo. Non ho ancora capito che non è cosa tua fare 1v1 rolas niente. Se volete non è cosa 1v1 rolas. Il signor martello è il più forte, la proposta più forte nella 1v1 rolas che non hai visto. Dì, glielo va. Ma chi? Io. Lui, guarda. Guarda me. Guarda me. Cazzo, ridi. Scusi, lui. Ma credi... Vuoi farlo? Piangi. Ero più l impossible. Ciamato, a poco la块le. Lascia mi statere. Un colpo sparati... Lascia mi stare. Hai sempre perso. Hai sempre perso... Ma ti ricordi quel pomeriggio, l'altro pomeriggio? Eh. Cosa, cosa mi ricordo? bambina che figura che hai fatto vieni vieni che tu hai ragione t'ho distrutto tipo 4-5 volte tu hai capito contro di me hai preso il pesce contro di me 5-6 volte c'ho la skin arma modificata primizia ah no, non fare così lo sai che è c'è quella di... sei troppo forte negli una viva sei dormendo? dai vieni qua come comincia di nuovo di nuovo vuole farlo quest'altro l'ho presa troppo su ma basta alza le mani sei puntato veloce inventare da quando le han toccati gli spiri mi da anche passi di toccarli non male dai non male dai qualcosa c'è sopra c'è qualcosa e che andiamo a rapire vinci ma no ma anche tu ti tipi bro questa era regalata abbiamo preso anche il cibo e acqua fanno proprio veramente cagare cazzo e cazzo è esploso ahahahahah cos'è che è esploso? che cazzo è esploso basta a tancare con quella maschera di me vedi che si lamenta lui di tancare che balla? no goloso ma cappone è chiuso? il principe sta andando a capa in terra tipo che faccio in testa? quale body? oh ma non solo ho ancora ho fatto Emma ah te la diventa ahahahah sarò merda va bene ecco allora a fare un po' di amicizia con i picciotti mi integro un pochettino ahahah 1 3 8 6 toni 4 0 1 quando sono entrati quei topi di fogno qua dentro mi dai in testa puoi camminare su questo pavimento con i miei piedi ok ci sapete che lui non c'ha le chiavi eh c'è ancora pozza c'è di infamità non la senti? mi schifo hanno tolto pure l'acqua e il cibo sti puzzoni di merda i ladri d'appartamenti bastardi ma pure le cose di mangiare si sono presi no questi cani allora sono hanno pietà abbiamo controllato se hanno messo qualche cimice o qualcosa eh se spero che l'hanno messo e arrivano adesso guarda sta carico eh visto come è cazzuto Nettuno cugino ma alla fine hai capito che è stato? questo c'è la valle d'acciaio c'è sei riuscito a capire che è stato? i poliziotti di merda ah cose di sberre mhm e allora non è possibile che ritornano non lo so mi ha detto ora qui ho capito che Tone sta riempiendo di nuovo il posto no ma abbiamo messo solo un po' di pistole che per noi non valgono niente però a me i ragazzi quando tornano che sono senza se le possono prendere se no è un casino andare sempre in magazzini abbiamo già riempito appartamenti in magazzini di roba importanti quello che ci manca adesso è dobbiamo fare quattro pacifiche entro due giorni quattro pacifiche che è la banca quella grossa è? mhm l'avevamo già fatta eh senza nessun problema toni e toni e tu no chiedati mio cugino ha una testa geniale e si può dire che siamo l'unica eh l'hanno tolta a tutti aveva riuscito a fare la pacifiche si si ma lo vedo che è una persona che ci sa fare sia con i giovani e non tutto suo padre tutto suo padre si ma le pacifiche bisogna dire grazie ai ragazzi non bene anche però questi ragazzi te le sei gestiti tu quattro pacifiche una al giorno giusto? si non è facile la scadenza è quattro giorni scadenza scadenza proprio non ne abbiamo perché il signore è il principale a cui dobbiamo tutto ha capito la nostra situazione sapeva benissimo che avevamo tutto dovevamo consegnargli tutto venerdì e lui non si è presentato e domenica ci hanno preso tutto ma io voglio sapere che ci hanno sparato dove è andato? quindi puoi aver detto si è sentuto anche un po' in colpa lui però purtroppo io so che mi ha chiamato lui a sto punto chiamati principe lo so che è lui dove è andato? eccolo eh c'è in mente di fare qualcos'altro? perché mi spari alle spalle? chi? tu? io ma adesso sono qua che parlo con loro da due ore vai 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 cosa si si spara da qualcuno il raga qua dentro ma stai mettendo in dubbio il mio cugino? si c'è a chi? a te oh c'è a chi? a te c'è a chi? oh oh no no non ti permetterò c'è a chi? io non ti ho sparato a te zio ti faccio diventare giovane? ma ci riesci? eh ci fai il lifting e ci fai il lifting? si ma angolo pesante bene eh ma devo rimanere in vita eh ma devo rimanere in vita eh ma devo rimanere in vita come devi rimanere in vita? eh scusa il lifting eh scusa il lifting eh ecco un'altra terra madonna sono soldati questi non sono uomini eh non può matti nettuno eh va bene va bene vedrai i tuoi occhi piano piano vedrai i tuoi occhi piano piano tu hai già un lavoro quindi ti metto al secondo ok? si esatto si esatto Samir grazie ancora dell'ospitalità della fiducia che stai riponendo in me per me questo vuol dire tanto eh spero un giorno e ricambiati in qualche cosa sono sicuro che lo farai non ho dubbio come hai detto le persone di una certa età in mezzo ai giovani possono dare molta 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 una mano molto grossa più di quello che possono pensare perché solo con i giovani non si va da nessuna parte ci vuole pure l'esperienza però i picciotti servono eh perché almeno parlo per me a una certa età no ma i picciotti servono tanto io sono riconoscenti a loro da tutti i giorni e lo sanno ehi sono molto affiatati eh si credo che devono anche un attimo capire che ogni tanto si può anche stare tranquillo a fare assieme a chiacchierate ma loro non ci piace queste cose non ci piace chiacchierare ci piace l'adrenalina sono giovane gli ci scorso gli ormoni capito? adesso dobbiamo trovare qualcosa da fargli fare perché sennò tra un attimo arriva una flotta di medici qua dentro ma anche tu gli dici basta che non si trovano una picciotta perché sennò rovinati siamo ma anche se si fanno una trombata ma che facciano una trombata benvenga basta che se si innamorano un problema capisci? tutti gli uomini e le femmine ti portano via te lo dico per esperienza ma questi non si innamorano di nessuno sono detto sono pazzi buono meglio così io quando mi innamoro scappano mi prendono il biglietto da aeree e se ne vanno via quando mi innamoro tu ti innamori? che cazzo ti innamori a fare? hai 70 anni eh la so però una volta con la pillolina sai un aiuto è sempre buono appartate funziona quella pendola eh cazzo ma a mia niente ci fai più ah 10 minuti è buono capito? diciamo che 10 minuti è buono anche per uno giovane eh eh magari ma con tu non prende due e mezzo eh faccio bella figura chi apre di più? chi apre di più? ah con due e mezzo c'è 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 la sigaretta e il caffè anche insieme eh? beh hai capito? ah ok con tutti per eliminare e certo che fai? no i preliminari non ci devono essere perché sennò è un casino ah giusto tu devi partire che sei ancora un mollusco vabbè finisce con tutti i preliminari cioè con tutti cioè solo i preliminari e i preliminari cioè stento la riesci a vedere magari la prima scarpa ma anche una scarpa va bene a me piacciono anche i piedi eh ecco questo è un altro diolipanzo quali sono gusti? ah 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 un altro fetiscione ci abbiamo il tuo cugino non ti aspettavo così ma poi a proposito il tuo cugino hai una domanda di te ma che cazzo hai combinato in faccia? hai combinato in faccia? hai in testa cosa che fino hanno fatto i tuoi capelli? e diciamo che me ne sono tagliati perché erano troppo lunghi e adesso mi sono fatto una tinta così una mesh alla moda come me la dedica alla moda bene ti stanno però e la barba non me la son fatta per un paio di giorni perché in quel cazzo di modello dove stavo fino all'altro ieri non c'era manco l'acqua votata non c'era manco la mente non c'era niente bene ok sono tornato a casa magari la barba non me la faccio però non mi sta male mi sta male? no la barba no i capelli forse non sono più abituati a vederti così non mi dispiace perché prima era più particolare e cacchio c'è mica dei capelli rossi bellissimi rossi? c'erano lunghissimi prima di tagliarli erano lunghi lunghi rossi e li facevo le trecine sopra ma questo è bene stai sembri un bello figurino dai dai non capisco niente no lui no lui ce l'ha con me non ti preoccupare né tu eh va bene è va bene voglio no voglio no preparare ragazzi va ma dove stai? che vuoi? ma quindi c'è qualche cosa da fare di travaggio? di lavoro? ma di lavoro ci sarebbe da andare un po' i campi ci sarebbe da fare sti pacifici ma adesso secondo me a quest'ora non si può fare tanto vediamo un attimino domani adesso li lasciamo sfogare sti maledetti ma se andassero a prendere quelli che sono ma perchè non andassero a rapire qualcuno? ma non vedo andate a appigliarli quelli che sono scoperto mi viene a me la credito mi riesci a rapire qualcuno? raga andassero a rapire qualcuno va eh? quale sto prendendo? sono... fantasisti e bernire di quanti siete? il lifting io, santi e... e i dieci mi hanno fatto pure doccia e forse c'è un altro che informazione ci servono? vince beh ma allora c'erano una testa sopra di noi però non si sono comportati bene ma riuscivano a chiamare gli NGM o si fanno chiamare tuttora il loro capo si chiama N non può sapere... oggi mi hanno detto pure dove abitano però questo ve lo dico domani devo prima fare un passaggio è chiaro e abbiamo... abbiamo... qualche informazione ce l'abbiamo già ma non li vedo più in città non so qui dove cazzo stanno diciamo che mi piacerebbe molto il loro mercato e c'è qualche amico che... ha tante ragioni per ucciderli ma... un filmino su TikTok ci vuole un bel filmino ci vuole di TikTok no? esatto cose moderne che si usano ora e loro ce l'hanno ce l'hanno ce la potrebbero avere ok ok cerchiamo di... magari di trovarli così allarghiamo gli interessi della famiglia dici? eh si dovevamo... dovevamo già fare il passo dovevamo già essere una testa a quest'ora ma purtroppo quel carico che ci hanno preso quei bastardi da qua dentro ci ha fatto rallentare tutto quanto se no ieri l'avevamo già una testa in realtà venerdì purtroppo questa cosa è stata frenata da sti bastardi ma adesso ci dobbiamo rimettere in carreggiata e rifare tutto quello che dovevamo fare in modo che riusciamo a portare il carico e comunque un mercato ce lo guadagniamo quello che ci impario adesso e se poi non ci piace ci possiamo prendere quello di questi signori qua e cosa ci impario per adesso? mercato di gioielli gioielli quasi di contrabandiere quindi non è un mercato grandissimo però secondo me qualche soldo lo tira su meglio di niente ovviamente ma quello che mi interessa a me è la posizione Nettuno più che il mercato che mi danno ok perché sinceramente soldi non ci servono se si fa questo passo praticamente si diventa un grado più alto nel rango chiamamolo così dei vitto è giusto? ora siamo una mafia potremmo diventare una testa del cartello ah cosa bello questo e questo per me è molto importante perché non mi voglio fermare davanti a niente Nettuno come hai detto tu volevo allungare le braccia e prendermi tutta la città fino a che si può ok è giusto è giusto bisogna avere sempre fame anche se sazia non mangia bene io ho sempre fame mi ha sempre la tavola che ho la pancia mezza vuota così mi godo meglio quello che c'è dopo bravo io pure così la penso quello che dobbiamo fare adesso sono queste cose qua campi di metanfetamina pacific e scoprire qualche informazione su questi cristiani campi di metanfetamina c'è qualche quantitativo da portare a casa dobbiamo portarne 5 kg ma ce li abbiamo già ottimo quindi diciamo questo è già spuntato sì però non ci fermiamo perché tanto quel carico ce lo chiedono tutte le settimane quindi è meglio sempre averne un po' in più perché se per caso qualche settimana ci mettono i bastoni tra le ruote quindi l'obiettivo giornaliero fondamentalmente è fare una pacific e poi il tempo che avanza fare metanfetamina bravissimo se c'è tempo e divertimento qualche rapimento esatto per prendere qualche informazione e stiamo muovendo così in questa settimana e ti posso dire che rapimenti ne abbiamo fatti un macello pacifico le avevamo tutte vinte e la metanfetamina è dentro il cane e va bene se ne fanno dai se ne fanno dobbiamo adesso rimetterci un attimino in carreggiata spero che per fare le pacifiche ci vogliono veramente 10 cristiani con le palle d'acciaio immagino perché sono veramente tanti quelli che arrivano e non finiscono mai quindi magari domani cerco di sentire i ragazzi e vedere se in 10 se la sentono di farla ci vogliono gli uomini più valorosi poche coffee domani me la voglio fare nella pacifico in 10 di loro certo te la senti? mhm sono le automatiche però certo automatiche caschi prova a sentire i ragazzi prova a vedere se domani in 10 di quelli che pensi che siano i migliori possiamo andare a fare una pacifico aspetta scrivo la mail sull'applicativo e iniziamo da lì tanto grosse cose da fare sono queste poi tolto il dente via il dolore una volta che siamo diventati testa penso che le cose e samir posso dire una cosa c'ho un amico molto intimo che ti somiglia un sacco come si chiama? k si chiama è spiccicato a te sembrate una stampa e due figure meglio che te lo posso presentare? certo un amico molto stretto e capisci diciamo che di solito lui è la mia ombra se io muovo un passo in avanti lui pure sei una persona fidata perché no? io ci metto la mia di mano capisci ok domani ci parliamo un attimino anche con lui faccio il stesso discorso che ho fatto a te va bene te lo presento allora ok dimmi tu com'è e quando io domani pomeriggio sarò in città più o meno dalle 4 e mezza fino alle 7 e mezza così 8 e poi rientro alle 9 e mezza fino a ora da definirsi vedo se è in tardo pomeriggio se no in prima serata va bene te lo posso presentare va bene come sei la cava a sparare? non è tanto valido a sparare è un ragazzo serio però capisci? anche lui è molto maturo se gli dice che c'è qualcosa da fare la prende con impegno e la fa bene capisci? ma non è altro tipo come giovanotto qui eh? non importa però è uno che dice sempre si ok va bene neanche lui è atletico eppure io si l'altro non ne parliamo no no o come no ma a me non importa solo questo eh che come ti ho detto tra attività legali che abbiamo e tutto quello che abbiamo in ballo e piano piano scoprirai tutto quello che abbiamo da fare serve serve a tanta gente qualche occhio in più e qualche orecchio magari fa piacere capisci? poi se mi somiglia ancora meglio così non sanno chi sono io chi e lui è un sacco eh ti giuro si fa un tatuaggio sul collo e vi vestite allo stesso modo sembrate uguale e lo facciamo fare così ma lo conosco io se ne ho 21 K è è vero sono uguale infatti prima quando l'ho visto ho detto che cazzo ci fa lui vabbè buonanotte ragazzi vai a dormire? buonanotte ciao ciao poche coffe ma questi stanno andati tutti a dormire? vogliamo andare a bere una cosa? andiamo dai a paguio dai mi sembra giusto andiamoci a bere una cosa dai andiamo a farmi cambiare va siete ancora in giro vuoi? ho sentito che andavano a dormire e deve essere il momento che adesso è il momento che dobbiamo stare attenti che non ci rapiscono loro mmmm vai vai guida tu zio è proprio quello che non sa guidare ma chi è questo con una maglia gialla dietro? quale? questo qua dietro è di nuovo Tony questo è non so mai non so mai non so mai non so mai 200 interdetto eh che cazzo vogliono i ragazzi che sparano ma ci vogliono anche ragazzi con la testa guarda guarda il gruppo dei rossi esatto Robb esatto infatti per quello che ti ho detto ci devono scrivere il rebert e il ritorno a me piace molto piace molto anche la gente che parla e tutto così quando andiamo a fare gli incontri facciamo comunque un numero di persone che chiacchierano e loro li lascio in giro sparare fare e disfare e li chiamo nel momento del bisogno così almeno non rompono i coglioni che non hanno voglia di stare lì agli incontri ma forse anche giustamente perchè comunque ragazzi loro fanno questo sparano e basta il governo arrivo dove ci stai portando tu? sto vedendo in giro i movimenti non voglio andare direttamente al 200 capito? ah no ma a bere dico a bere eh ho il pallina cazzo cazzo aperto eccovi un rumore di specie ah si qualcosa che volevo tanto che mi incontrasse con nessuno ho fatto un rito però è pazzesco grazie grazie vinci ah si ma ragazzi ma a me piace ruolare con tutti lo sapete io sono una persona che apre le porte a tutti mi piace fare rp mi piace chiacchierare mi piace scoprire mi piace investigare mi piace sparare anche mi piace fare un po' di tutto mi piacciono le persone anche come lui che le persone che gli piace fare rp e tutto quanto quindi benvenga sono molto contento sono davvero molto contento poi io ero una brava persona l'ho conosciuto bene a me anche fuori gli piace molto vedete dopo eh esatto c'è anche AIDS vediamo la macchina come cazzo si chiude già? no cos'è come si chiude? muscoletta L ah L? eh che cazzo io non le chiudo mai ah 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 ok hai fatto ah non le hai fatto come no vai prova tu a chiuderla vai a entrare voglio dire eh no aperta ma questa la tua è eh si mi dice chiuderla chiudi e poi provi tu provi tu adesso ma fai una cosa non c'è un parcheggio qui non c'è eh vabbè vai a fare in cura la mettiamo qui dietro dai che si veda di meno aspetta ma dai c'era che se la fottino che cazzo mi frega ci sono altri rossi sono? altri rossi bene 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 è parcheggiata proprio lì dietro a destra che non si nota nemmeno ma questa è la macchina di Martin nel proprietario del Galaxy lavora qui? lavora qui? non lavora qui ce l'avete da mangiare? e morire tu lavori qui no non lavora qui ma hanno scritto che a parte non c'è nessuno si si saranno sopra vediamo buonasera 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 avete bisogno? ci vogliamo bere qualcosa di alcolico un po' forte signore se ce l'ha certo come no poi sapevo dare 5 di alcolico e 5 di anche a me anche a me anzi faccia 7 che almeno facciamo un 7-7 7 di alcolico si faccia 7-7 di mangiare e bere alcolico poi offro io qui un alcolico per tutti un open bar di 100.000 dollari fate dai è l'amatore oh va bene allora scrivetelo che c'è un open bar signore quindi magari è rimasto un po' di sì sì la fattura glielo vai tu? tanto io scrivo me la vedo io ragazzo scusate perché il ragazzo ho assunto stasera eh sì ciao bello Tony Martinez che c'era un ragazzo qui sotto che c'aveva fame se ne è appena andato magari vedrò ben bar il videoclip è pronto bene principe si deve martin ma com'è ci fa con coglioni chissi di strip tutti i pilavi sonny ho parlato buono oh venivi in a galaxy stiamo qua eh martin vedi di mandarlo a quella dai che lo pubblichiamo domani brava Roby esatto più stiamo è meglio ma tanto saremo sempre di più forse non l'ho capito allora abbiamo detto che ci fate 7 e 7 da mangiare e bere per noi due che siamo chi sei ma tu che fa ditemi i numeretti 12 4 1 4 6 2 e poi un giro di alcolico uno per tutti e per me pure mi fai un 7 e 7 d'acqua e cibo fammi una cortesia il suo numeretto manca che numero 138 scrivelo che c'è un'open bar magari qualche ragazzo meno fortunato viene oh martin a me martin mi servono 10 e 10 acqua e cibo pure un alcol ultimo non sai 4 0 1 e dopo anche il 12 grazie facciamo una bevuta ragazzi però mi dispiace il mio personaggio così sembra bello spesso bello cattivo buonasera a tutti buonasera buonasera signore cosa vi do mi manca il cibo per me mi fai un salto nel comfort un whisky un artigrano o due whisky un letto un letto 138 passano uno quello al 500 martin per favore anche al 4 4 1 il whisky che tiro ci sta si si poi deve provare questo satan comfort è leggermente di caramello è buono no non è male non è male anche io lo voglio provare saluto 4 6 2 eh purtroppo il whisky l'ho finito non lo so che c'hai di di forte non dovevo bere di forte lo posso dare ma sembra quasi cg come parla questo un bel room vai vai a secco vai numeretto 4 6 2 ma bevi eh eh cazzo questo picchia eh nocchia eh sì cin cin signori alla salute alla salute alla nuove amicizie alla nuove amicizie e alle cose che verranno eh salute scendia sto whisky mannaggia il cazzo bello eh vedi come ti gratta tutta bella la gola ma è buono che sapore si può fumare qua si chiama il sapore della ha bevuto pure lui alla salute bevi il sapore senti il sapore del caramello se ti fumo una sigaretta ci possiamo fumare la sigaretta signore si può fumare qua ma certo il sigaret mi può passare da baggiare mamma mia sono tutto storto col sigaro bello sul zoom minchia dimmi il tuo numeretto 12 come? 12 quanto ci sta quanto ci sta bene una sigaretta dopo il rum ma andrea grazie per il like bello mio senti senti lo senti sulle labbra il caramello come andiamo con i like ma non era tutto appiccicato sulla sigaretta faccia cazzo 80 80 grazie mille degli 80 like ragazzi grazie a tutti grazie Marco grazie bello benvenuto dai ragazzi ancora una ventina ne mancano ma stasera non ci arriveremo mai al centro questo locale comunque sai cosa ci starebbe qua con questi lampadai mi dà l'impressione mi dà l'impressione di uno di quei posti dove si ci va con la moglie con la mascherina scambisti è vero picciotti non sembra uno di quei posti con queste candelabri e tutte la carta di parete che sembrano fiore invece sono femmine quelle sulla carta di parete eh sì non ce l'avete un paio di femmine? eh no signore purtroppo stanno in ferie stanno e qualche ballerina la potevate pure a super signore? eh il problema è che in città purtroppo ci sono poche ragazze e quelle poche ci sono fanno altri lavori oppure già fanno le ballerine al vanilla comunque al vanilla ci stanno le ballerine? al vanilla sì no? no ma ci stanno qui comunque che è che stavo a Milano? ma no ci devi andare piano ma no ma che schifo voglio tappo va bene sta sporcando tutta la mochetta sta sporcando mi sposto è schifo può dare maronna mia sta malissimo sta ci avevi fatto caso guarda qui come si aggrovigliano da una carta di pareccia tutta sembrano fiori non è vero non ci avevo fatto caso ma per questo ti ho detto che sei uno di quei locali beh che posto? ho sporcato tutto voglio tutta coppa un balcone eh sì Samir regge meno di me ragazzi ufficiale io ho sempre detto ormai mi schiarerà mi ricorda un film questa balconata da qui guarda hai mai visto questo è un film che si chiama camminate ricche ho però vomitato eh sì che per giurare fedeltà piccine picchie e dicevo io vedete se mi posso fidare e quindi si vanno a sfagare un po' con lei l'ho pensato di fare però non mi sembrava a caso è un po' brutto effettivamente qualcuno che vuole fare un bel acquistolo fa questo però l'atmosfera sembra questa mancano solo le persone ma ci sono quello sotto che vomita passa da Tony a concessionare e chiude un bel affare mi sono mai bevuto troppo sì ma adesso non ce ne ha vaffangula a lui due macchine adesso glielo dico a proposito ho usato garantito lo so lo so Tony puoi vedere un attimo mi dici a lettura però che non ci sono macchina da vendere come hai se hai difficoltà con i soldi no che succede è che tutte le auto che avevamo le abbiamo vendute e ora sto cercando delle nuove auto ma se metti qualche annuncio nel giornalino magari ti aiuta ti dice ma se infatti ora bella Andrea grazie mille per il like quello mio ma si sono bagaggierà e vedo se qualcuno viene a volte capita che non trovi nessuno e a volte capita che trovi una a me la tigre grazie per il like tigreotto e magari stasera è la volta buona perciò ora vado un po' ma ti accompagniamo eh ah si non è no signor si a segnare le donne all'usato dai vediamo un pochino se arriva un po' di gente mi devi levare gli accessi e rimettere lì a tutti vorrà fatti mandare un messaggio non ti preoccupare non ti preoccupare è enorme sto locale ragazzi si usciva è finito di vomitare se mi vomito in macchina ti butto fuori dalla macchina speriamo di non vomitare anche lì eh no però ti faccio fare una corsetta a piedi ti leggo dietro alla macchina ma questo sembra non pensante qualche con due mi dissocio ciao caro ciao fate qua eh lavorate qua ben lì no devi andare su di sopra anche grazie ma ti giuro che pensavo che non pensavo anch'io ero convinto che era non pensante anch'io ho visto che tornava indietro i gomorroidi la scena di pisciare nel bicchiere ci avevo pensato però gli stavo sparando pensando che fosse uno non è carino da far vedere il live tu vomito in macchina ti leggo fino al concessionario dietro la macchina no non ci provare non ci provare tira giù sto finestrino ma chi è che sti draghi io 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 no 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 ti prego no ho già fatto cazzo no se mi hai vomitato nella bocca adesso ti gonfio eh sì anche sulla pelle lo faccio a pezzi no ti prego aiuto ma si proprio ne succede adesso pulisci merda gli devi pulire sta macchina sto merda è vomitato tutta la macchina sana ti taglio proprio bravo sozzone a qua mica viene nessuno a quest'ora faccio il roves magari a quest'ora no però durante le prime ore della sera arrivano le persone è un peccato c'è poca scelta ho avuto un modo di parlare con l'altro concessionario dell'usato hanno un casino dei macchine però non hanno i dipendenti giusti ma io so che questo lo sta perché ce le vengono a noi io so che Michele si sta vendendo tutti sono Maurizio e mi voleva fare direttore a me oggi però siccome ho parlato con Tone gli avevo detto una parola non mi sembrava giusto capisci beh allora ci parlo io mi prendo pure quello così qualcuno gestisce di qua qualcuno gestisce di là ho detto mi voleva fare direttore questo pomeriggio però mi sembrava male lasciare i piattoni da solo arriva qualcuno spera va bene non la sento signore tutto bene senti buona sera devi vendere un'auto vuoi comprare mi dica di cosa devi parlare con il direttore che è dentro quella macchina o quella con la camicia rossa più tardi vendiamo un'auto vendere sono auto del concessionario lo so più tardi vendiamo un'auto il signore vuole comprare una macchina allora bello mio che ti serve che tipo di auto ti serve la più bella che ha la più bella che c'ho toni quanto vuoi spendere ma macchina ci dobbiamo comprare non sono un problema non sono un problema toni vedi se ci abbiamo qualche ferrari se ci abbiamo qualche macchina la più bella che abbiamo vedi quale ci sta qualcosa di epoca che il signore mi pare un intenditore vedi quale problema arrivano i clienti macchine non ce n'è eh no glielo ho detto mi ha detto che non c'è più gente che gli sta portando le macchine da comprare eh se nessuno le compra nessuno gli le porta adesso vediamo se questo si compra qualcosa poi devo parlare un pochino in giro a vedere se qualcuno ha delle macchine da vendere perché eh mo io non mi sono mai azzardato a comprarne alcune di troppo care perché giustamente capisci qui dentro il dipendente faccio non è che ma compra compra se serve ma i soldi vedete ma va bene va bene l'importante è che gira questo posto non deve mai rimanere senza macchia eh tre macchine capisci ieri ne ho vendute sei quante sono sono rimaste tre poi non lo so Tony ne ha alcune indisfatte non ho capito sta roba perché lui ne ha tipo ne vede di più rispetto a me ma sarebbe dei signori qua qui del locale se parcheggiano spesso la macchina qua non è che vogliono comprare qualcosa volevo vendere qualcosa no no parcheggiano la macchina qua spesso fuori indietro questi tre giorni che sono stato qui li vedo sempre fare sto giro c'è testare adesso parcheggi qua che ti sono amici di Tony sono buoni da comprare la moto si sta comprando ottimo e così rimangono le macchine importante è vendere tutto quello che c'hai buon venditore vende quello che c'hai quello ti do ragione è come un cameriere no? si il cameriere è bravo è bravo a vendere quello che hanno quello che vogliono la gente sono una bistecca mufita la gente viene a mangiare non sa che cosa avrà questo ti ha ragione andiamo a vedere signori buonasera buonasera grazie cosa ma tu sai qualche bella auto da vendere magari vuoi fare un po' di spazio nel garage il discorso vale pure per voi portami dai facciamo facciamo un bel pacchetto se mi porti due tre auto faccio un bel prezzo soprattutto se sono vanilla auto off road moto da cross moto da strada anche anche c'ho anche una bella barca hai qualche amico vuole agente buonasera come sta? lavora qui? tutta vuole vedere le serviva qualche cosa la barca sì sì io vorrei sapere che c'è la barca informazione su più per aiuto online mia la mercedes le serve vuole comprare la mercedes è quella la prende solo di esportazione si chiama guanti so il mare fa portata l'europa assomma ci vuole anche speciali percivalere ma con noi vengono accolto io devo venire con voi che c'è non possiamo parlare che c'è eh vuoi fare il veicolo come parla vedere i veicoli ti spavere a parlare davanti le altre persone e vi dica tutti questi i cofresi tutte le portazioni si signore si anche quelle pure alle moto come la moto è mia quella allora guarda guarda e cosa abbiamo chiare e cosa abbiamo guarda che bella macchina che abbiamo qua questi fai guarda che bella acciaio americano questo 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 se barini a non avendo cosa vende questo non è in vendita è privato questo bella bella è vendita non per comprare e cosa cercavate quando offro di ma di prezzo prima venditore c'è voglia direttamente un'area invece chiamata c'è da capo e non per cento capo per cento capo per cento capo per cento e trecento e fanno 600 rimettete insieme no no vediamo cosa ci tira fuori no 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 se c'è per passarello aspetta chiedermi una 100.000 che per la moto 200.000 e ti la sta regalando e io ho voluto fare posso sentire il sound devendo voluti sound si può sentire ma nemmai per monoposta che fa scusatemi agenti ma voi ah sta là là no no ah beh un ciretto è giusto così posso salire è un problema è che parola potete con ciretta è in servizio no no io ho soltanto sentire poi se a quei due posti perfetto perfetto ho sta lì 100.000 delle macchine quelle europee ci puoi comprare solo il volante purtroppo e che significa solo da esportazione noi ho mai con i bit con i bit bravo bravissimo ma voglio prendere un po' più poetica eh fammi si dire solo su un po' bello questo sport mi piace pure due posti ma pariamo ma sia qui poi si può pure musica giusto rimanere a essere monoposto se non sono mezzo dati a voi come vai monoposto questo tantissima roba 4 e 50 ammortizzatori della show a rilev giugno 80 mille so so e avanti non gira a vede pure forcelle vp segna guarda un giro io ho fatto un giro non hai vissuto qualche ballavano 4 e 5 anni inizioni direi ma quale si è finita perfetto allora compriamo allora non è che ti metti no frizioni e le vado torna in servizio appena compro gas gas bagnato bagnato olio questa è lavorata frizione bagnato se riesci a bagnato per posto io non mi metto nei casini comando frizioni ti dà bella moto bella moto ah io sono arrivo al cc nel caso stanno dicendo questo è tanto carina come cosa allora quant'è c'è ora con la gente come va il pf pf 9 9 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 mi viene l'orticale per la stagenda ehi netto lo solito che ha detto ha detto che noi siamo tutti quanti mangiati noi siamo tutti mangiati io voglio picchiarli tutti fammi il dolore davvero ma che sfigato ma veramente vabbè vabbè lasciateli parlare picciolo che sfigato lasciateli parlare arriverà il giorno che ci pisciamo in testa netto uno andiamo a prendere un attimo quelle due auto bella Alessandrone grazie per il like veniamo anche noi ti serve una mano ne devi prendere altre due e ti serve una mano? si 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 ma tu riesci a vedere le macchine che stanno fuori? sonny rimanete qua per favore andiamo a garage e veniamo si si però ragazzi non c'è il venditore mi hai visto un po' della macchina? si si sonny quella è la prototipo al massimo facciamo zumbaro con macchina non è per comare non ci capite quella è la prototipo fai chi la valutazione e arrivo io prendi una dal catalogo sai no? vado giù e piastra proprio a chi li dà o prof e li vai vai facesti zumbaro po' di rinda vuoi calci IMTIVo al izotto mi stavo già rendendo nervoso da ripiegare le botte mimo dovevano qua tutte le aziende ogni volta che li vedo diffuso mi non voglio picchiarli tutti perché non te le prendiamo per picchiarli porta? eh si dove potrebbe stare non mi capito no che macchinetta vedi questa cosa non la sapevo per esempio io te l'avevi detto l'altra volta e ne tu no non la sapevo questa cosa a volte le trovi pure al garage eh ma è successo l'altro giorno c'era un pazzo che in città ha fatto un casino a saperlo hai capito no che macchina vedi c'è un'altra due macchina vuoi provarne una ma si me ne porto una vi aiuto mi aiuto a portarle là e stanno altre come è che ha quel cos'è? ci sono 6-62 come è che è? 5-6 io ne ho un paio aggis e questo portiamo questi lì e andiamo a prendere quell'aggis e questo ok ok ragazzi c'è un veicolo di non pensante con due persone vestite di rosso dov'è? vanno verso il 553 noi stiamo andando a 5-3 eh 30-100 2-3 1-4 1-2 1-2 2-4 1-2 1-2 2-3 1-2 1-2 1-2 1-1 1-2 1-2 1.2 1-2 eh ragazzi purtroppo è rosato cos'è guarda che sono soldi puliti che ricevi subito bella quella liberta cos'è? 200k tondi tondi? va bene va bene vieni qua vieni vicino a me si ora ti passo un po' compagnia e tu non la disse quelli si ma che se ne capite? ma io la disse ce l'ho io ce l'ho io ma che cosa dovrei fare? vado io va lui è uguale non ho capito ah no ha detto ce l'ha lui no va poi scusa tutta quella macchina che non si sta notata che macchina è questa vera e principi non vorrei dire una cazzata mi pare si chiama comodato nell'intenditore però si può provare è certo aperta gentilissimo che voi non succede erano battuto qualcun altro da scendere ma erano battuto è un'altra persona di nimmer eh porta ammala a vedere davanti ok grazie come si chiama quel ragazzo eh ha detto che ora mi porto un'altra auto come si chiama? eh non glielo ha detto non glielo ho chiesto eh ma l'ho capito che dai? io lo chiedo appena viene ma volete finire? eh va bene c'è sto dai è successo lì 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 andrò a punto ma guarda che bestia guarda che te che questo perde pure l'altro occhio eh guarda che bestia che ha è una bestia a guidare mamma mia quanti ne hai di sei questo? ah due o tre non mi ricordo andiamo? allora dobbiamo andare tutti e quattro e allora vengo anch'io dai se no non ce la facciamo cosa sta macchina che non ci passa? attenzione alle portiere mi raccomando eh è stata ammaccata sta macchina eh appunto è già stata ammaccata chiudo la testa del signor mettono fuori la testa del signor mettono ha conno d'azio e ho scopo come si adenuano all'ora le corno le corno sì oh 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 mi raccomando perche scusa prima le face vi vedere a tutti i difendenti le macchine ha disequinizio a lui no i toni o oh non ho detto in che senso no no perché le auto una volta che le prendi dal blip del concessionario andano due di proprietà ok come se la macchina fosse solo 82 e se la lascio in giro ovviamente te li ritrovi qui a meno che non l'hai presa dal blip del concessionario e va a finire diciamo al garage a allora ci sono c'è qualche macchina dai questa è una neon che queste si vendono facili e non è male quella è mia bello solo appartiene bello si questa è la graficina ma io penso che 45 anni questi l'ho presi per l'evento questa è pure bella che deve stare questa è la k lx che la sa che la tiriamo sotto e quella come ce l'ha mai capito a lui che macchina c'ha ma quella non la può bene come cazzo ce l'hai questa? eh secondo te dove? questa è legale ma questa non la puoi vedere nè in concessionaria però appunto lo so bella però questa è la tubaro? ah non è sicurissima ah è vero ma questa è qualche stramacchina la puoi vedere? si si la è la voce più chiusa nemmeno per 10 milioni la vengo allora sono queste due moto e la mia una ragazzi allora scegliete voi dai io vado con l'accio vai prendo la macchina io oh britta a posto con la moto sicuro è UQG va vai a cacare va che è un kiollo questa moto e ora che non sta scegliete salve allora ragazzi la R-62 va dentro ho scusato qua che bello del cazzo che ho fatto metterli qua metti la qua la mettiamo lì vicino alle altre sembra più pieno mi fai il passaggio di proprietà sulla verde a ragazzo R-82 si chiama non lo so la voglio parcheggiare se si è rimanato a dire R-82 davanti vai ancora oh beffi cannalino vediamo come esci tu vai un po' più avanti vai più dietro davanti più dietro nice ma sembra più pieno se le mettono tutte qua ma sei magro un figurino sono un po' che panza ma per comprarmi una macchina che era già vostra no ho capito quindi dai Tony 2,80 sta questa se la compri da me se io sto avendo a testi quanto scusa Tony la LGS questa la macchina è quella è la macchina del ligo ma che si comprano pure le macchine tutte spandate ma bolsa botoniche che si chi si caduce questa non è a me sta bene allora questa è la LGS te la posso valutare facciamo 85.000 vai 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 io scenderei io scenderei 80.000 ok dammi un secondo per il contratto numeretto vieni qua oh caro guarda che sei stato fortunato a me se mi danno sta macchina non me la peghi neanche si mare caro ma si ma per quello che la voglio vedere perché fa cacare per l'appuntura più che altro che tutta sfondata e anche un peccato adesso ne uso un'altra che ho pagato circa 7 milioni uso quello che sei ricco fratello no semplicemente l'hanno regalata ma come cazzo che sta regalata la macchina da 7 milioni cosa hai fatto a qualcuna che mi vuole amare capitare di un concessionario ma qualcuno che ti vuole amare secondo me è stato certo no quali per me è regalato acqua da 7 milioni 6 costa il rea gara centrale non so fare la lavorazione ecco che il cavo di numero 8 2 5 1 5 mamma adoro una volta azione 85.000 giustizio il bambino 4.5 mila di ferro ti si vede per lo certo il contratto un po' di rinforzare ma tutta ronda guarda il mio lavoro è se la pagano se la vendi a ferro di pagano te pagano meno voglio non c'è nunc a tutto io non è io devo passare il contratto ci si passa il contratto 5 1 5 la piccola stava il dono il petto quello che fa no per il racconto no ma sapete vanno via come l'acqua questa è capito manco un miracolo la farsi bella stavanti ma non è vero ma non ha sposato a te tanti auguri a posto tanti auguri a te se sei migliore già si se si va bene signora rivolio non mi era chiusa la macchina ma guarda guarda come se ne va ciao belle grazie mille signora è chiusa cancello signor saurino signora è chiusa cancello e continuano a sbattere contro il cancello ecco vedi che si funziona tutto è chiaro guarda 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 la vedo la vedo ma devi vedere quanti zoom si mettono dietro a sto cancello qua eh e sbattono con la testa nel cancello ok riprendita mo pc champagne bello mio ma perchè bella questa si perchè l'è passata caccia la caccia da soldi wow quella è fighissima è quella che ho visto in quanto tempo la vendi non la faccio mai nessuno la veramente fai te la vi giuro ma non vi muovete da qua vi faccio vedere una macchina bellissima ma è cazzo dai qualche macchina c'è ora si ora si ora si ora si e prima ce l'aveva tutto al dissequestro sei macchina dai dai così ancora ancora si può fare ma spruzzare c'è il congestionare si ma a volte a volte capita che non ci entrano le auto a volte qua dentro qua non ci entrano le auto le metto fuori ok però quando poi le vendi tutte il compito suo più importante è cercare di trovarle le auto buonasera buonasera la vendiamo questa no io sono partito quella mia l'ho messa via l'ho trovata così dopo ah posso faccio però togliamo la data si si la faccio sparire io ma ti ricordi per il mio mette la qui da mattina la vendiamo la vendiamo la vendiamo a noleggio quella ma no la vuoi stai fb eh si non spaggiamo qualche ciume spaggiamo dai buon toccato buon toccato buon toccato buon toccato macchano adesso arrivano perché abbiamo sparato più di 10 colpi siete pronti si ooo ma queste sono le cose belle della vita apri sui metti centone Tony a capo ragazzi a me mi sento meglio a capo si è stato un regalo di Natale compleanno questi sono bei regali due regali al giorno così due o tre con loro dentro e sono a posto eh adesso anche con loro quelli di prima gli avrei voluto seccare un po' la faccia dal muro eh no ma tanto vado 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 dal suo capo e gli faccio vedere tutto uno di quelli due di là che mi voleva parlare voleva fare un discorso strano con me te lo dico io però mi sembra strano perché non dovrebbe ricordare niente diciamo che mi aveva rotto un po' troppo i coglioni l'ho fatto spogliare l'ho lasciato freddo a terra ecco ah che bello ma ma eh minchia che ha questo se hai fatto male questo è il mio bellissimo e cazzo è questo c'è ma roma un corrente che viene a prendersero ma sta prendendo a non pensare questo ma chi è questo è rialzato in una mezzata è ora la picchia capo e capo che viene la picchia aia aia aspetta ti matare cerca di andare cosa inutile pezzo di merda cavrom è un picchio me no no pezzo di merda non ti alzare pezzo di merda aia è morto è morto è morto è morto è morto è morto basta basta maledetta lui paravaro hai visto come atletico hai visto come atletico hai visto come atletico si attende che puoi spessi un femore si è bloccato il ginocchio è saltato da un marciapiede di 3 centimetri è caduto di pace a terra è bloccato un ginocchio no non riesca a capire però sei diventato più carino va bene faccio il secondo secondo sono riuscito a farlo pure ma questa dove va quest'altra signore non ce n'è droga qua cerchiamo di andare via dai su non si vende droga che qui c'era una piazza di spaccio una volta vengono tutte qui ci ho parlato comunque aia certo che tu cazzo se manisco aia di solito vengono tutte qui si mettono proprio dietro sta rete vai in fila aspetta una cucina ti piace? ma porco cazzo lupen lupen mi chiama e mi dice aspetta salgo vabbè ma faccio solo il giro qua intorno sgomma sgomma che cammina però che cazzo lupen lupen eh devo cambiare sto finest fino a se è rotto 120 all'ora è la quarta tira i freni a mano tira 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 cazzo 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 di macchina cazzo perchè non scende e non prende la pistola cazzo 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 a questo che era arrivato che l'ha preso sotto il codo del pollo lì chi è? sta facendo le foto là fuori boh quello che stava prendendo da un pezzante non so con la maglia bianca eh sta facendo le foto sta facendo bello scusami un tabaccaio? come è? un tabaccaio eh lo so son nuovo come ti si sapevi dire sono appena arrivato con l'aereo sei appena arrivato con l'aereo? ah ok anche ho finito le sigarette mica c'è una sigaretta ero ecco qui niente? non fu niente niente bella ste 500 comunque bella la vuoi ho cucinato? nooo e quando cazzo la guida io sto macchina guido manco le mie una chiappe le signorine fai colpo eh no ci vuole lo sai che cosa se capitiamo una bella limousine eh colotto non la volete ce l'hai vero? quanti posti è? eh non lo so quanti posti è bello il maggiorone oppure questa qua preparata questo è bellino ah questo già fu il titolo ragazzo oppure quello l'ha preparato io con il motore da dietro bello si si è bello proprio questo è il fizioso loco questa volta però perchè fuma? ma che vi piace la macchina rossa? stava no stava stai morta stava no stava stai morta stava la devo spegnere la devo spegnere sennò ci affumuliamo eccolo dove sei? ma chi è la radio? chi è la radio? eh come cazzo schiavolo dice sempre c'è eccolo biondo chi sei? biondo abbiamo il tuo cavo se non parli te lo scendiamo ma c'è eccolo se era per il c'è eccolo ero io eh no certo eh no certo ma chi è? non è tu? chi c'è c'è trova in tedesco si dice terzo kent ah tu puoi spiegare in tedesco pochetti non poco e niente però dai qualcosina ci ha avuto una ragazza capisce? ogni tanto qualcosina all'orecchio me la sussurrava ma c'è che mio cugino stava cercando di coltellare la signorina sei sudata? questa si incazza oh questa ti pena è bloccata è bloccata se ne sto andando scappa guarda 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 aumentate il passo mare mia dove corri bella sta a posto? scappa signorina scappa questo è un pervertito scappa questo è un pervertito scappa eh ma fanculo va ti avevi da pertaining no il culo moscio merda lavora non te l'ha data? mi scappavi ciao signorina bebe bebe quella che ha per me lo sceglie vai cagata la tiri pure vai io volevo fare un'opera di me un ritattone del spruzzo quelle quando diventano mamme come si chiamava quella signora che l'hanno uccisa la sua signora Paola Paola faccia l'anima sua c'era una signora veniva ogni giorno qui mi veniva a guardare mentre lavoravo è un pezzo in mezzo a spazio comunque quel ragazzo che prima è arrivato qua stavo facendo le foto qua fuori acido e fai gli fare le fotografie cifre ci dice che la stampa ce la porto ma come che male che si è fatto quelli ad un pugno ha fatto faccia e finestrino oh si è una nettuno ma ci ha fatto sentire cacchio di voce bella che c'è lei lo stanco però guarda quell'altro guarda ah ce la fai guarda quell'altro guardalo guarda se volete qualcosa hai visto in ferro però sono stanco ecco ma che sta combinando oh l'ho trovato tutte e due ma ci sono una tizia e faccio però se devi canta tu io sono e tu canti va bene? no 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 io sono e tu cantavi la canzone tua dai amica è la tua no? eh dai 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 che la conosci dai no 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 e poi non ho la manica di dal cuore e fare le rime una famiglia ma solo l'erba forti quella sensimiglia ma sono stanco però io vado verso casa venite a dormire voi siete ancora lavorati no 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 io vado a dormire domani devo portare la zia pimpitello a mare ma perché voglio dormire ma devo salutare toni dove cazzo toni arrivo subito noi andiamo a casa fratello tu vieni con noi io aiuto a toni a posare le macchine e poi se siete a casa vi raggiungo dai ma buono ciao bello inizia a posare già le tue ma cosa succede adesso guarda fa puffi te buono c'è la città seppure piromano tu ogni tanto una cosa che non ho mai fatto è con due bilici metterle vicine e farmi salvare oggi invece a luisi come cacchia le ritrovate io questa è questa mannaggia la puttana mi è arrivato un guaio da è che qualcuno me l'ha mandato questo è arrivato un miracolo come vai mannaggia al cazzo ma adesso si può sapere che cazzo è combinato con quell'occhio no no non è l'occhio il sangue arriva dalla testa come oggi mi hanno notato via le schegge dei proiettili di quando avevano sparato in centrale e dato che avevo un forte mare di testa sono andato a fare oggi la risonanza e dentro c'erano le schegge che tenevano per me il sangue brava era buono perché magari qualcosa a meno il cervello ce l'ha visto una vapa pura ah no wg mi hanno accattato i due oroni secondo me e io lo vedo allora che arrivi massimo domenica e gli faranno il processo per la merda e va bene siamo qui signori non ammettere in una di quelle stagioni del manicomio e dopo non volete dormire vanno dormire se vuoi passo su di salutarmi vedete il socio vedi che è cambiato tutto a proposito gucci riguardo i moderatori capito su chi ci vediamo un attimo di la se volete grazie grazie mille samuele samuele grazie per il like bello il laichettino della buonanotte ci vuole sempre vado a chiudere gli occhi ragazzi che sono bollito serata moscia brutta non mi è piaciuta per niente però vabbè ci rifaremo domani alcune serate ti aspetti che ci sia tanto movimento e invece non c'è un calzo altre non ti aspetti niente e c'è un macello da fare allora ah mannaggia al cazzo mi dimentico sempre che mi ha rotato poi vieni su discord alzi se vuoi vieni su discord ci facciamo una parola lì perché adesso ristacco gli occhietti vengo su discord faccio due chiacchiere con voi fumo una sigaretta e vado a dormire che sono bollito allora amori miei io cosa vi devo dire grazie tante della bella serata grazie della compagnia come sempre abbiamo fatto 84 laichettini non sono da assolutamente da da disprezzare non si disprezza mai nulla ci vediamo domani pomeriggio forse di nuovo con gta però vediamo magari se riesco a recuperare qualche giochino da portare a pomeriggio perché la città un po vuota quindi non so vedremo vedremo un altro messaggio ma da che palle questo messaggio dello staff mamma mia ogni volta lo slash danny grazie mille per il like bello grazie davvero di cuore siamo in chiusura ragazzi ci vediamo domani pomeriggio penso 4 e mezza con gta o sennò domani sera vediamo comunque sicuramente pomeriggio facciamo una live vediamo se la facciamo su gta o su qualcos'altro ci sentiamo domani belli un bacio e un abbraccio a tutti vi voglio veramente bene grazie di cuore della compagnia dalle condivisioni dei like e dei messaggi in chat domani grazie a tutti grazie a tutti